Allora se vi sedete io do subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Gugliotta, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Presidente. 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 I scrutatori di oggi sono i consiglieri Guido, Alabiso e Gugliotta. Iniziamo subito col primo punto che è una proposta di deliberazione avente ad oggetto regolamento del municipio Roma 7. Presidente, lascio subito la parola al consigliere Pompei per l'illustrazione. Buonasera a tutti, grazie Presidente per la parola. Allora, come penso sia tutti quanti ricorderanno, nel gennaio del 2018 di quest'anno praticamente è stato modificato lo statuto di Roma Capitale. Con delibera poi 60 del 22 maggio 2018 è stato modificato altresì il regolamento del consiglio comunale. E' stato modificato il regolamento del consiglio comunale, normative queste alle quali comunque lo statuto del municipio deve adeguarsi. In particolare per le due principali innovazioni, cioè la nuova commissione straordinaria di Roma Capitale Innovazione Tecnologica e il superamento della commissione delle elette che diventava commissione delle pari opportunità. Abbiamo colto l'occasione come municipio di adeguare il nostro regolamento implementando, facendo anche delle altre leggere modificazioni che nell'intento di migliorare la funzionalità dello stesso, che sono state viste in alcune sedute di commissione, i cui lavori erano un po' aperti a tutti, ma in particolare il 24 settembre tutto ciò che era stato fatto è stato mandato nel testo definitivo ai componenti della commissione e a tutti i capigruppo affinché si rendessero conto di quali erano le cose che andavano cambiate. Erano ombreggiate in quella versione, erano ombreggiate le cose da togliere, erano, come posso dire, invece sottolineate in grassetto e corsivo, le cose che venivano raggiunte. Quindi io a questo punto non so se è il caso che mi rimetta a rivedere articolo per articolo dicendole quali sono state le modificazioni. Per me le do acquisite a tutti i componenti della commissione, quindi mi riserverò magari poi alla fine di poterle dare chiarimento e illustrarle nella relazione e nell'intervento conclusivo. Che volevo dire? Per quanto riguarda le cose più importanti, per quanto riguarda la nuova commissione di Roma Capitale e Innovazione Tecnologica, le attribuzioni di questa commissione facevano quasi integralmente scopa con quelle che sono le attribuzioni attuali della nostra sesta commissione, quindi non c'era nulla da dire. Quello che bisognava fare invece era superare la commissione delle lette che era prevista nel nostro regolamento e riproporre il testo che ne abbiamo ripreso integralmente da quello che era il regolamento del Consiglio Comunale. Tutto qui. Quindi altro per ora, io non mi dilungo, avendo portato a conoscenze tutti quanti lo stato dell'arte prima, le modifiche fatte e il testo definitivo che stamattina mi sono così per tuziorismo riletto il nuovo testo che ci è stato consegnato, quello ultimo, se riportava tutte quante le innovazioni. Quindi a questo punto mi taccio e lascio la parola ai consiglieri per tutte le eventuali osservazioni, riservandomi come ho detto poi eventualmente alla fine, nell'intervento conclusivo, di chiarire dei punti che fossero rimasti incompleti. Grazie. Ringrazio al Presidente della Commissione che io mi scuso, non faccio parte della Commissione e quindi il testo l'ho avuto al sito istituzionale che lui forse conosceva e quindi l'ho reperito solo oggi, però ero informato del lavoro che stavate facendo sulla Commissione, sugli articoli che dovevate cambiare per alcuni aspetti giustamente, però tra l'articolo importante su cui avete discusso ci sono poi piccoli cambiamenti che io onestamente non ero a conoscenza e su questi vorrei dei chiarimenti, non tanto sulla Commissione di pari opportunità che viene inserita con un articolo nuovo, il 46, ma su alcuni pezzettini secondo me importanti, ma che se alla fine o durante mi può chiarire o forse è una coppia vecchia quella che è già superata, quello che io sto guardando, ad esempio mi riferisco, articolo 52, validità delle sedute prima e seconda convocazione, che vuol dire che deve un consigliere per iscritto, se fa un richiamo al regolamento lo deve fare per iscritto? Cioè deve scrivere, portarlo e poi dirlo al microfono? Fatemi capire, cioè perché c'è il comma 3 dell'articolo 52 e il comma 6 dove vengono cambiate delle modalità. Comma 6, quindi immediatamente dopo l'appello effettuato nei termini di cui al comma 1 il Consiglio si presume ad unato in un numero legale, salvo che prima di una votazione la verifica del numero legale sia richiesta da uno scrutatore o da un consigliere per iscritto, da due consiglieri o da un Presidente di gruppo. Voglio dire, non farebbe in tempo neppure ad andare, come lo deve scrivere, perché lo deve fare per iscritto? È cambiato questo righetto che sto leggendo dell'articolo 52, perché adesso vado alle altre annotazioni che ho fatto sul regolamento. Io penso che forse in seduta di Commissione questa roba l'avete vista molto bene, quindi alla fine potrà avere un chiarimento, perché è natura che rispetto a un regolamento cambiato ci deve essere la massima cosa che non ho visto in tutti i regolamenti trascorsi. Questa era una. Grazie. Poi l'altro aspetto, sempre richiame al regolamento presentati per iscritto, pure grande, in eretto. Gli interventi per il richiamo al regolamento presentati per iscritto, non mi sembra che il consigliere che ha richiamato al regolamento abbia formulato o ha il tempo di formulare una richiesta per iscritto. Andiamo avanti. Articolo 65, richiesta della parola per fatto personale. Anche qua ho delle perplessità rispetto alle modalità della nuova articolazione, sia del comma 3 sia del comma 1. Articolo 64, richiama al regolamento. In che forma un consigliere si appella al richiamo al regolamento? Articolo 68, presentazione degli amenti e subamendamenti. Quindi è un altro articolo che cambia rispetto alla precedenza. Io ho il testo che lei mi ha mandato al sito istituzionale. Dopo me lo dice, magari, se è un testo errato, intanto vuol dire che queste sono state superate. Faccio una precisazione, magari. Allora, il 24 settembre, su mia richiesta, aveva inviato il Presidente Pompei a tutti i capigruppo, proprio su mia richiesta e del direttore, in modo che tutti potessero essere informati. Io l'unica copia avevo avuto è questa. Un attimo, io no, lo voglio dire perché penso a un chiarimento importante, perché se no andiamo avanti e parliamo di cose che non si capiscono. Allora, il 24 settembre... Un attimo, consigliere Ciancio, mi scusi, me la fa fare questa precisazione, perché penso sia importante, altrimenti non ci capiamo. Allora, c'era un testo con il vecchio testo messo in eretto e accanto, diciamo, ombreggiato e accanto alla nuova dicitura, in modo che fosse chiaro per tutti i capigruppo cosa cambiava e dove. Poi, penso che sia stato inviato recentemente, chiaramente, dopo l'ultima votazione in capigruppo, un testo pulito dalla segreteria, perché in delibera è chiaro che non può essere, diciamo, votata in consiglio un testo in erettato, un testo ingrassettato, un testo ombreggiato. Però le volevo dire che a lei, come a tutti i capigruppo, ho provveduto io personalmente a chiedere al Presidente Pompei, ho qui la mail, a tutti quanti è arrivata. Allora, io sto, in questo momento, sto parlando dell'articolo 68. Questo è il vecchio regolamento. Questo è il regolamento che ho avuto io cambiato, addirittura sottolineato e in eretto tutte le parti aggiunte. Nell'articolo 68 ci sono delle aggiunte che non troviamo, quindi io sto parlando di una cosa vera, cioè la presentazione degli eventi e subambienti avviene secondo modalità diverse rispetto al vecchio regolamento. Sì, sì, certo. Allora, cerchiamo di capirci sul metodo, perché altrimenti non ne veniamo fuori, perché il regolamento ha avuto talmente tante commissioni e sono girate talmente tante copie, che è chiaro poi se non abbiamo quelle di riferimento non capiamo, perché alcune cose sono state poi, diciamo, alcune modifiche in successive commissioni sono state abolite, depennate, perché ci sono state discussioni con tutti quanti i gruppi consigliari. Io non lo so se il metodo giusto può essere, Presidente Pompei, lei prenda nota di quello che dice il consigliere Ciancio in modo che si possa rispondere puntualmente, perché altrimenti non ne veniamo fuori, perché abbiamo copie discordanti. È d'accordo, consigliere Ciancio? Non abbiamo copie discordanti. Io ho una copia precisa di quello che è diventato l'ultimo regolamento, solo che sul mio sono scritte in eretto, sul testo che avete inviato si mimetizzano nel vecchio, quindi è difficile vederla la differenza. Certo, quel mio è il lavoro di commissione. E lo ringrazio Pompei che ha avuto questa premura, io dicevo di mettere a destra l'articolo e a sinistra l'articolo diverso per fare meglio, però ottimo lavoro per alcuni aspetti, per altri vedo delle incongruenze. Giuste o sbagliato, me le spiegherà in aula, se lei ritiene che l'interrogazione o un richiamo al regolamento debba essere fatto per iscritto, oppure lo può dire il consigliere che diritto lo fa verbalmente, siccome nel regolamento c'è scritto se non è vero, mi dice guardi queste parole sono state soppresse, non ci sono più. Mi fa capire una cosa, perché se no veramente non sto capendo io, lei ha il testo finale più quello vecchio, giusto? Sì, sì. Ok, ha il testo finale che è quello che ha girato la segreteria più quello vecchio, giusto? Esatto. Perfetto, allora l'unico modo è andare avanti come ho detto io, lei prende appunti, Presidente Pompei e poi sarà in grado di... Io non ho parlato dell'articolo aggiuntivo 46 che è la sostanza per cui doveva essere cambiato il regolamento, perché è un argomento che avete discusso per molto tempo nella commissione competente e quindi avete trovato le giuste misure per elencare le condizioni e le priorità e come sarà composta la commissione pari opportunità. Io sto parlando di tutti gli altri piccoli cambiamenti che sono stati fatti al vecchio regolamento, ma che naturalmente sfuggono se naturalmente questa copia che gentilmente ha fatto il Presidente della Commissione l'ha inoltrato però al sito istituzionale, cioè quello al Comune di Roma, perché al sito dove ci mandano le commissioni questo non è mai arrivato, è arrivato giustamente perché è una copia corretta, se vuole faccio vedere anche la stampa che ho fatto. Direi giustamente, come dice lei. Allora, dunque questi argomenti riguardano l'articolo anche 68, l'articolo 76, l'articolo 77, l'articolo 78, l'articolo 79, sono piccoli cambiamenti operati in questi articoli, l'articolo 80, l'articolo 84, ad esempio, questa la dico sulle interrogazioni, avete cambiato qualcosa sulle interrogazioni? Questo dobbiamo rispondere, perché se è poi che scopro che diamo ulteriori tre minuti all'assessore dopo la risposta dell'interrogante e mi sembra che abbiamo cambiato altro, ecco ve lo leggo, ditemi se c'è, all'articolo 84, svolgimento dell'interrogazione, l'interrogante o uno di essi, ove siano più di uno, ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di cinque minuti e può replicare per non più di tre minuti. Solo per dichiarazione se ne è soddisfatto della risposta. Il tempo della risposta da parte del Presidente del Municipio degli Assessori non può eccedere oltre dieci minuti, ma previa autorizzazione del Presidente del Consiglio e possono essere autorizzate a replicare alla dichiarazione dell'interrogante per non più di altri tre minuti. Si è verificato già in aula che l'ha fatto, può essere, può capitare, però adesso lo mettiamo nel regolamento che l'assessore risponde dopo la risposta dell'interrogante. All'articolo 84 io chiedo, l'UMI ha l'estensore del regolamento su questa... Non le considerate, è assolutamente un intervento. Io ritengo che il regolamento vecchio sullo svolgimento dell'interrogazione poteva essere più che completo ed esaustivo. Non è che avevamo problemi a cambiare quel punto del regolamento. So bene, forse a quest'ora avremmo votato, Presidente, se io avessi evitato di fare l'intervento perché è ovvio qualcuno deve aprire. Io ho aperto dicendo questa smania di dire cambiamo i regolamenti, analizzare poi se funzionano, basta guardare a quello che abbiamo fatto, se i regolamenti che abbiamo cambiato hanno prodotto delle sane e buone operazioni, il tempo lo dirà, quando si scioglie la neve si vedrà quello che c'è, però a parer mio alcuni di questi piccoli cambiamenti forse sono anche corretti, però molti, parecchi, sarebbero da discutere con più attenzione. Siccome in Consiglio adesso diventerebbe lungo e logoroico cambiare una parola o due parole, eppure dovremmo farlo, a meno che in Commissione mi dice il relatore che si è fatto perfettamente questo discorso. Io non ho, mi riservo quindi di prendere decisioni dopo l'intervento finale del Consigliere relatore e ripeto, se vuole io, lei ce l'ha la copia per cui sa benissimo dove ci sono stati i cambiamenti, se dobbiamo fare qualche interruzione la faremo perché io ritengo che un regolamento deve essere condiviso in modo più ampio possibile da tutte le forze politiche e come del resto il testo che si è approvato è nato da bei mesi di lavoro complessivo da parte di tutti i consiglieri nelle Commissioni e addirittura è stato licenziato con qualche mese di ritardo proprio per garantire massima trasparenza negli articoli che venivano deliberati. Grazie. Sì, Consigliere Gandigliotta. Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo fatto più, molte commissioni, su queste abbiamo tra l'altro condiviso anche con l'opposizione, magari su qualche cosa, mi ricordo ci siamo trovati anche d'accordo, su altre magari un po' meno, però meno male abbiamo fatto un percorso, percorso abbastanza lungo, quindi si suppone che chi in teoria non è in Commissione e non fa parte, perché in quel contesto credo che il gruppo misto non ci sia, quindi non ha nessuno che possa riportare poi tutto l'iter che ha seguito poi la Commissione e ovviamente serve proprio a questo, cioè l'invio della documentazione, quindi uno la studia perché poi oltretutto anche le minime cose sono state discusse tra maggioranza e opposizione cercando di riflettere cosa era meglio e cosa non era, diciamo, che doveva essere cambiato. Quindi, di conseguenza, mi aspettavo, mi aspettavo non un elenco degli articoli, perché lo sappiamo quali articoli sono stati cambiati, spariamo numeri così, senza spiegare perché questo, perché quest'altro, allora avrebbe senso, allora uno potrebbe rispondere perché in Commissione tra tutti quanti abbiamo optato per questa scelta, perché la ritenevamo più che altro più idonea e dire solo numeri non serve a niente, io stavo prendendo appunti, cioè su che cosa prendo appunti, sugli articoli, non posso prendere i numeri, prendo i numeri, lo so che abbiamo cambiato quello, ma che cosa è che non va? Ora, il problema è, se uno arriva l'email, se la schiarica, se la legge e tutto quanto, non capisce determinate cose perché magari non può seguire tutto un iter che noi abbiamo fatto in Commissione, allora uno magari lo spiega, ma se io dico, articolo 61, 62, 62, 63, l'abbiamo cambiato, sì, è una novità, l'abbiamo cambiato, però nello specifico dovremmo sapere che cosa ho, allora, alcune scelte le abbiamo fatte più volte, anche l'opposizione si ricorderà insomma che abbiamo discusso se era più o meno valida la cosa di mettere in una forma più o un'altra, allora, io capisco che non essendo presente uno non può sapere cos'è successo, però, se uno fa un intervento dicendo non mi va bene questo, non mi va bene perché, allora io posso rispondere, ma io che cosa rispondo? Che è stato cambiato, 64, 65, 66, sì, sono stati cambiati, e questo possiamo rispondere. Allora, io penso e credo che sia forse più, diciamo, costruttivo se le cose vengono chieste con un certo criterio, perché se no siamo qua perde tempo, così perdiamo tempo, se invece diventa costruttivo, se invece di è. Allora, non mi piace questo per questo, per carità, è opinabile, è opinabile, comunque tendo sempre a ripetere che queste scelte sono state prese insieme tra maggioranza e opposizione, e l'opposizione su questo me ne potrà dare atto. Poi, si può essere d'accordo su qualcosina in un modo, su qualcosina in un altro, quello sì, certo, però bisogna un attimino avere un minimo, almeno per controbattere, perché adesso io sto controbattendo praticamente sul nulla, grazie. Altri interventi? Vitrotti? Grazie Presidente. Proverò io a sintetizzare quello che forse il consigliere Ciancio ha detto, non solo citando numeri, ma appunto non avendo partecipato all'esituto di commissione, non è riuscito a prendere neanche lo spirito di lavoro che c'è stato nella sesta commissione. Perché? Perché, devo dire, all'inizio ho tentato in un qualche modo di dare un approccio che era già capitato nel collegamento per la partecipazione e quello per i comitati di quartiere, tendesse sempre meno a irrigimentare, stringere dentro norme come fosse appunto la necessità di regolamentare, però andando anche a livellare quelle che nel corso anche di questi due anni abbiamo visto che appunto faceva riferimento non a un articolo a caso, ma per esempio quello che riguarda le interrogazioni. Insomma abbiamo visto che lì ci siamo anche, nella pratica dei nostri consigli, ci sono state delle modalità in cui a volte abbiamo anche lasciato che le due parti arrivassero ad uno scambio costruttivo, perché appunto l'interrogazione è uno strumento che serve all'opposizione per capire, per non arrivare a quelle informazioni che è ovviamente una maggioranza probabilmente già. E quindi quel minuto in più, quella necessità di una replica, sono e rientrano nel normale dibattito politico e democratico che ci dovrebbe essere sempre in un'aula. Vederlo irrigimentato perché potrebbe dar fastidio dentro quei tre minuti, quei cinque minuti, come diceva il consigliere, scritto nero su bianco è ovvio che è anche legittimo che un consigliere dica ma attenzione andiamo troppo a irrigimentare la discussione. Questo un po' è quello che c'è stato, io faccio due esempi, guardo il consigliere Pompei perché con lui appunto avevo provato a fare una discussione, ci fu una prima discussione sulle sedute streaming delle commissioni che poi ho visto sono state riportate un po' come è stata la ripresa streaming del consiglio, quindi chiedendo il permesso, permettetemi, deve essere legittimato dal punto di vista istituzionale e per me questo però è un'altra forma di chiusura se vogliamo, perché poi si chiede la cortesia al Presidente ma si lascia anche la disponibilità. Altra storia era istituzionalizzare proprio il percorso, sempre una battaglia storica non solo della sottoscritta ma del gruppo del Partito Democratico a suo tempo, ma poi i frutti li vediamo perché appunto se c'è un percorso che si è aperto anche a Roma Capitale ci sono stati degli investimenti e quindi oggi si può anche stare su una piattaforma universale cittadina, perché non se ne fa solo carico un municipio ma se ne fa carico l'amministrazione cittadina, così come nelle commissioni, io ho provato a dire proviamoci e proviamo a dire poi troveremo anche gli strumenti economici che capisco che sono un impegno e che sono il frutto di una discussione che deve essere fatta in un altro modo, tra l'altro quella comunque è sempre la commissione bilancio, però in altre forme e in altre mani. Invece si è poi preferito andare su una ridotta, quindi andare comunque a bozzare un tentativo di trasparenza e necessità di venire incontro ad una richiesta ma cercando di mettergli una cinghietta. E lo dico, altra riflessione che avevo fatto, mi dispiace se non è stata colta fin in fondo, era stata quella degli ordini del giorno, che era un po' il bulnus che c'era già nello scorso regolamento e avevo ritenuto utile inserire la possibilità di lasciare a qualsiasi consigliere di maggioranza e di opposizione anche di farsi carico delle questioni più complessive perché noi siamo anche eletti attraverso delle elezioni politiche, quindi ognuno di noi avrà anche la sensibilità e deve avere quella sensibilità nel portare anche all'interno del nostro Consiglio le questioni di carattere nazionali, generali, ciò che ci accade intorno a noi che non è solo la buca o il marciapiede o l'erba che non viene tagliata o la mondezza che non viene, ma sono questioni di carattere generale. Su questo il Presidente mi ha detto che c'erano comunque dei problemi e quindi il nostro adeguamento a quello che doveva essere un percorso che andava molto incontro al regolamento cittadino, perché il segretariato, perché questo, perché di fatto non abbiamo avuto forse un po' anche questo coraggio. E poi lo anticipo perché per me è stato difficile discutere di questo regolamento perché come sapete il gruppo del Partito Democratico ha sempre detto che c'era un problema di fondo, cioè che secondo me il problema per cui alla fine sarà molto complicato cercare di votarlo questo regolamento è perché c'è il recepimento di quella norma che noi abbiamo contestato fin dall'inizio, cioè che è stata la modifica della, non la modifica, tu prima parlavo di modifica, consigliere Ciancio mi permetta, ma c'è stata la cancellazione della commissione delle elette con una nuova commissione che si chiama commissione delle varie opportunità, che se voi leggete, noi tutti consiglieri municipali, non siamo parlamentari, non siamo ancora arrivati a occupare importanti ruoli, ma dice cose importanti, dice che noi possiamo addirittura vigilare sulla corretta attuazione, mazza quanto chiacchierate però, sulla corretta attuazione nell'amministrazione municipale della legislazione statale e regionale, ora io capisco che questa è presa e trasportata dentro i nostri, però attenzione perché poi andiamo anche un po' oltre perché noi nonostante togliamo la commissione delle elette e poi comunque ci teniamo a sostenere comunque la politica attiva per le donne e quindi promuoviamo la presentazione di candidature femminili per le nomine e le designazioni di competenza del municipio nel rispetto del principio delle pari opportunità. Che vuol dire? Se sa. Quindi nella pratica una norma recepita nel nostro regolamento non solo è dal nostro punto di vista sbagliata, perché toglie quello che è il luogo preposto all'interno dell'amministrazione anche municipale delle politiche attive per le donne, ma non solo, lo trasforma in qualche cosa che più fumoso non può essere, perché questo articolo dice tutto e non dice niente. Non credo che l'ultimo è per importanza quando dice che promuove, il punto I alla fine dice promuove azioni e politiche attive, non credo che sia un livello di importanza che gli è stato dato, ma esattamente non si capisce bene che cosa voglia dire garantire e inserire una commissione delle pari opportunità. Tra l'altro questo ha portato una discussione su Roma, perché chi si interfazza con gli altri municipi dice ma voi che cosa state facendo? Chi aveva già le politiche come nel nostro caso, avevamo già nella commissione politiche sociali le politiche, la delega le pari opportunità, chi invece non ce l'aveva proprio e quindi un passaggio è stato diverso, chi invece l'ha dovuto… questo è stato anche il segnale di non conoscere quello che succedeva all'interno della realtà cittadina dei municipi e quindi l'obbligo di prendervi una norma ideologica, perché poi di questo parliamo, che però fino ad oggi non capiamo ancora come sarà di fatto applicata. Se tanto mi dà tanto e se quello che vediamo sulla città di Roma è esattamente la chiusura degli spazi, ma la chiusura fisica degli spazi che sono consegnati alla collettività di discussione e di elaborazione delle politiche di genere, allora questo è esattamente l'esito di quella ideologia lì e questo purtroppo, consigliere Candigliota glielo dico perché in commissione sì è vero ci siamo confrontati, ma si percepiva una diversità di vedute, sia nel come si vuole amministrare, sia nel come si vuole interloquire, interfacciarsi con l'opposizione e è chiaro, messo oggi nero su bianco, dentro questo regolamento, è per questo che l'opposizione per quanto si possa mostrare collaborativa e comprensiva a volte deve mettere anche un punto e dire attenzione perché oltre questo non possiamo più parlare, noi l'abbiamo anche un po' vista questa prassi e non è che abbiamo personalmente vissuto anche l'espulsione da un'aula, quindi la modalità con la quale si vuole anche aggredire gli spazi di discussione che ci sono in una normale aula consigliare a volte si vanno a gravare troppo, pertanto al di là delle osservazioni che vorrei ascoltare giustamente da parte del Presidente della Commissione perché ha fatto un lavoro anche difficile di collazione, rimangono delle perplessità perché ne stiamo parlando di come noi ci regoliamo qui dentro, che non è una banalità, che non deve garantire purtroppo solo la maggioranza, ma deve avere l'obbligo di garantire la vita democratica di maggioranza e di opposizione, cioè di tutta la vita del Consiglio e di tutta l'amministrazione. Se viene meno questo presupposto, diciamo che prevale invece una misura molto ideologica di filone maggioritario che pertanto non riusciamo ad accogliere favorevolmente. Grazie. Altre interventi? Non ci sono. Sì, consigliere Giannone. Grazie Presidente. Io per la verità volevo fare un brevissimo intervento perché mi sembra che siano state le cose un po' se non imprecise, quantomeno siano state rimarcate degli aspetti che in realtà non sono così gravi come si è tentato di far passare. Intanto io non ho capito al primo intervento il metodo utilizzato perché le modifiche che sono state proposte sono state modifiche comunque puntuali, precise, abbastanza minuziose che sono state per lo più da quello che come Camo Gruppo sono stato informato di questo dal Presidente Pompei, sono state poi dettate anche da necessità pratiche di rendere applicabile un regolamento che deve regolare giustamente la vita, la discussione politica e la conduzione politica tra maggioranza e minoranza e opposizione, quindi è chiaro che deve essere il modello che entrambi le parti devono seguire per poter avere entrambi la possibilità di portare avanti un dialogo politico, ognuno per propria parte. Ora ho sentito dire che si è voluto irregimentare la modalità con cui vengono di fatto, in alcuni casi è stato fatto già, portate avanti, condotte le interrogazioni. Allora scusate, l'interrogazione è una modalità, come giustamente ho sentito dire, per l'opposizione, un'opportunità per le opposizioni di chiedere informazioni per poter poi portare avanti il dialogo politico all'assessore, quindi l'interrogante chiede all'assessore Lumi e dopodiché l'interrogante fa le sue considerazioni e dice sono soddisfatto di ciò che mi hai detto, non sono soddisfatto per questo motivo. Benissimo. Ora però permettetemi che se durante, come è capitato, se durante questa seconda fase vieni fuori un'altra domanda, io penso che sia una questione di buonsenso permettere a chi deve rispondere poter o rispondere alla seconda domanda, magari fatta impropriamente, perché sappiamo che l'interrogazione deve essere fatta in modo chiara e deve esprimere il tema e l'oggetto dell'interrogazione, non è che poi da una domanda e da una risposta si fa un'altra domanda, perché se no questo si chiama dibattito. Però può capitare che nelle motivazioni l'interrogante abbia motivi, la sua mancata soddisfazione per esempio, perché l'interrogato non è stato chiaro. Allora secondo me dare l'opportunità ad un assessore di poter replicare brevemente, per chiarire, non penso che sia una cosa così irregimentata, significa semplicemente di fatto stabilire tutti quanti in modo chiaro che con regole condivise e note a priori, che se tu mi fai una domanda non sei soddisfatta perché è una certa motivazione, è in quella motivazione però non è coerente con quello che io ti ho detto, dammi la possibilità di chiarire ed è ciò che è stato fatto già qualche altra volta, per cui secondo me inserire il regolamento non può che essere a beneficio di tutti, perché le regole servono a tutti quanti per capire come dovrà essere portato avanti appunto il dialogo. Poi sinceramente a proposito dello streaming, mi trova, insomma io non ho capito bene la criticità che è stata rilevata. Lo streaming è una modalità per rendere pubbliche, per dare la possibilità a tutti di partecipare, però sappiamo che sono pure delle regole da rispettare. Ora prendo il punto così vediamo tutto questo stravolgimento. All'articolo 45,2 è stato aggiunto che le riprese e le registrazioni devono essere integrali, per me questa è garanzia di imparzialità, io non è che posso fare una registrazione, poi dopo ne prendo un pezzo, poi dopo lo taglio e non la faccio, le faccio, la devo fare tutte dall'inizio alla fine, tra parentesi è ciò che già avviene, quindi non mi sembra che sia un stravolgimento. Le stesse insieme alla conservazione dei relativi file possono essere effettuate e curate solo da chi istituzionalmente è autorizzato. Quindi insieme alla conservazione, sappiamo che la conservazione di un filmato è un elemento abbastanza critico, sapete tutti la gestione, tutti quanti conoscete il tema delle registrazioni video, c'è bisogno di un'autorizzazione, c'è bisogno di un consenso informato, tant'è che è stato inserito all'inizio dell'ingresso, una targhettina, qui si fanno registrazioni, chi entra in questa sala sa di essere ripreso e quindi se io non voglio essere ripreso non entro in questa sala. Quindi la conservazione deve essere fatta a cura di chi istituzionalmente è autorizzato, questo è un fatto di legge. Possono essere effettuate e curate le registrazioni solo da chi è istituzionalmente autorizzato, sempre per un motivo legato alla normativa. Quindi io non capisco quale sia questa... Consigliere Abiondo, lei parlerà quando è il momento. Questa critica... Lei parlerà quando è il momento, chiederà la parola e le verrà data. Vada avanti consigliere. Io penso che invece il percorso che è stato fatto in commissione è un percorso sicuramente valido perché dopo un anno più o meno in cui è stato approvato la versione nuova di questo regolamento è importante fare un po' di tuning, si dice in termini tecnici, cioè mettiamo un po' vediamo un po' cos'è che non ha funzionato, di registrare, registrare un po' tecnicamente questo è il termine, quindi non mi sembra che ci siano degli elementi che aggrediscono gli spazi di discussione dell'opposizione. Sinceramente questo regolamento non vieta alle opposizioni di poter esprimere il proprio giudizio, la propria capacità di esprimersi su delle tematiche. Non mi sembra affatto perché altrimenti sarebbe veramente preoccupante. Quindi sostanzialmente io penso che sia stato un buon lavoro che non può far altro che migliorare invece la modalità con cui il dialogo politico continuerà ad essere portato avanti dalla maggioranza e dalla minoranza nella misura in cui ognuno vorrà parteciparvi. Sì, grazie Presidente, avendo scritto e avendo preso dei dati dal collega Ciancio dovrei dire alcune cose, ma le dico perché mi sta un po' stretto il fatto di essere parte integrante dell'ufficio presidenza e quindi ritengo che l'ufficio presidenza, la Presidente e i vicepresidenti ovviamente hanno in questo caso un po' più di responsabilità politica non tanto per quello che è stato modificato ma per quello che poi dovrebbe essere la garanzia dello svolgimento del lavoro consigliare e quindi l'organo garante. Infatti non a caso l'ufficio presidenza ha ritenuto che oggi si poteva fare questa delibera in presenza del Direttore perché la scorsa settimana non era presente e quindi abbiamo ritenuto opportuno che il regolamento in questione fosse alla presenza del Direttore sempre come garanzia della parte amministrativa e responsabilità del Municipio. Per cui queste sono due cose che ho detto adesso non di poco conto, cioè se dobbiamo essere garanti come ufficio di presidenza e come il Direttore è a garanzia di un lavoro è normale che non ci debba essere secondo me molta soggettività. Ora io non metto in dubbio che non essendo parte integrante della Commissione, ma il collega me ne ha già ampiamente parlato, non dico che ci sia stata una volontà politica di parte per cercare di indirizzare in qualche modo questo tipo di regolamento, però avendo preso degli appunti mi sembra che ci sia una sorta di soggettività, cioè di aver lasciato al singolo soggetto l'interpretazione. Perché esempio? Per l'articolo 52, se ho capito bene, avendo letto, ho messo anche gli occhiali, è normale che ci debba essere anche la richiesta di un consigliere, non di due consiglieri, quindi ci può essere anche la richiesta da parte di un consigliere nel riferimento specifico. Anche per l'articolo 4364 io vedo che c'è in reneretto il fatto di dover dire per il richiamo al regolamento, non ho capito Presidente, se si può fare verbale o bisogna scriverlo per fare il richiamo al regolamento, quindi se hanno messo un qualcosa di scritto, cioè è stato modificato qualcosa di scritto, significa che abbiamo lasciato un po' il discorso soggettivo, cioè per noi in quel momento è utile scriverlo, dobbiamo essere distanti da qui, dobbiamo indossare un altro tipo di vestito, quindi essere distaccati per essere garantisti, quindi ho visto anche, per esempio l'articolo 77 va bene come proposta di libritazione, quindi la modifica del 77 va bene perché rende più chiaro il passaggio, quindi è distaccato l'intervento che è stato fatto sull'articolo 77, anche sul 78, sulle proposte del Presidente e della Giunta, cioè ci deve essere collegato il parere etc., sulle risoluzioni, lì è stato fatto un pacchetto sulla mozione, è stato fatto un pacchetto di considerazioni molto equilibrate, come per dire non sono mie, sono del sistema, sono del meccanismo, non ho messo il mio pensiero, ho ragionato per e quindi è andato bene. Sull'interrogazione c'è questo fatto da risposta, io sono entrato in questa aula consigliare e in questo municipio sotto la ferrea, come si dice, egemonia del Partito Democratico e del centro-sinistra e ho imparato alcune cose, ho preso tanti schiaffi politici e mancherebbe altro, ma ho imparato anche altre cose, per cui la politica è un po' un animale strano, ci sono delle verità non dette, il fatto dell'interrogazione che poi l'interrogazione si fa prima, non si fa dopo, quindi uno quando fa l'interrogazione dice ma io devo fare delle domande, una, due, sedici e le metto scritte, poi l'assessore risponde a quelle una, due, quindici, sedici, non può essere però che, quindi lo dico sia per l'interrogante, ma lo dico anche sia per l'assessore, non può essere che poi escono fuori in arte 5-6 domande e non può essere che anche l'assessore si metta a rispondere a 5-6 domande successive, perché se tu già le sapevi, le avresti scritte, se ne sei arrivata a 21-22-28, quindi per evitare questo io lascerei quello che era, non darei ulteriore modo di allungare il brodo, perché poi si crea quello che ho detto prima come aggettivo, la soggettività, cioè di chi poi dice sì te lo faccio dire, di chi dice no non te lo faccio fare e questo non lo dobbiamo togliere, cioè la parola soggettività, deve essere oggettiva la cosa, poi ho sentito bene l'intervento della collega del PD e quindi vi trovate su un paio di parole quando è simpatica questa cosa che vi trovate insomma a contrastarvi su certi meccanismi, ma la realtà cittadina, quando sento questa parola, la realtà cittadina io veramente mi sento, mi vengono dei brividi perché dico massa che concezione politica, cioè che termini profondi, poi alla fine non è altro che essere in contatto con la realtà di tutti i giorni, oppure di chi in questa istituzione deve essere garante, torniamo sempre lì, se noi riusciamo a essere garanti, non oggettivi e non soggettivi secondo me avremmo fatto il massimo e siccome ripeto non vedo e chiudo, non vedo una volontà personale, ci mancherebbe altro, ma noto una certa soggettività, cioè un modo anche di entrare personalmente dentro alla fase di regolamento, dovremmo essere un po' più distaccati e alcune cose sono andate bene, altre potrebbero essere più modificate e quindi c'è un po' di confusione per quanto ci riguarda, grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi può intervenire lei, consigliere Pompei? Cercando di fare in modo che la voce si senta questa volta, io volevo dire che le sedute sono state sempre comunicate, sono state pubbliche, non è che quelle aggiunte o quelle omissioni o quelle cancellazioni sono il frutto di converticole che si sono riunite a mezzanotte che a favore dei nebre hanno, è sempre stato, tant'è che a volte ci siamo trovati non in linea anche con la direzione, mi scuserà se lo, e a un certo punto abbiamo portato avanti quelle che erano le nostre idee, ciascuno ha detto la sua, poi si è scelto. Io proprio per questo motivo che è stato un processo dinamico, quindi non una cosa calata dal cielo, a un certo punto ho fatto mandare, d'intesa con la segreta del Consiglio, il 24 settembre mandai ai componenti del Consiglio, ma poi mandai a Carlone, Stelitano, Gugliotta, Vitrotti, Giannone, Ciancio e Totti, mandai la copia finale di quello che era stato il prodotto, precisando, vi mando, trasmetti il testo votato dalla commissione del 19 scorso, dove sono riportati in grassetto corsivo sottolineato tutte le modifiche man mano apportate nel corso delle commissioni precedenti ed ombreggiati le parti risultate poi da cancellare. Quindi in effetti ho cercato di essere chiaro, per cui quando parliamo per esempio dell'articolo 64, i richiami al regolamento, la frase da leggere presentati per iscritto è ombreggiato, quindi non va tenuto più conto, ma il regolamento recita esattamente i richiami per gli interventi, per i richiami al regolamento, richiesti con l'alzata di mano, hanno la precedenza, eccetera, eccetera. Quindi volendo, ripeto, mi era sembrato abbastanza chiaro. Ovviamente poi sono stati evidenziati una serie di cose, alcuni articoli, quelle modifiche, cioè l'articolo 68 per esempio, era stato detto, per esempio durante il corso del che è tipico, a un certo punto c'è stata una interpretazione sulla rappresentabilità degli emendamenti, gli emendamenti possono essere presentati soltanto per le proposte di delibera o anche per altri e praticamente si era trovato inizialmente una frase, un escamotage per gli atti, atti di indirizzo possono essere presentate modifiche come previsto nelle specifiche discipline, qui non ci siamo trovati in linea, abbiamo fatto una discussione, abbiamo visto quello che ha comunicato il segretariato e quindi praticamente a un certo punto gli emendamenti sono presentabili anche per altri atti, come dice il segretariato, perché abbiamo depennato questa frase che inizialmente era stata messa. E così è stato per tutto quanto il resto. Ora si può essere d'accordo o non d'accordo, per carità, però ripeto, leggendo gli altri articoli, il 76, il 77, praticamente questo è il metodo che si è seguito, la parte che è risultata, che poi quella trasmessa in chiaro, senza nessun ombreggiatura o sottolineatura, dal Consiglio che io stamattina, me ne è testimone qualcuno del Consiglio, mi sono riletto tutto quanto per vedere che anche la segreteria non avesse fatto errori, chiedo scusa, però è un modo per essere sicuri quando poi veniamo in aula e a un certo punto mi è parso. Ripeto, possono essere condivisi o non condivisi, per esempio l'articolo 76, questo sempre per ripeter il concetto di prima, avevamo scritto le proposte di liberazione di iniziativa dei consiglieri, redatti in maniera definita sia nella forma che nella sostanza, poi si è visto che questo poteva essere interpretato diversamente, per cui a un certo punto si è preso e si è cancellato. Ecco, quindi questa era una cosa introdotta durante le discussioni e poi successivamente nei termini finali cancellato. Quindi questo per quanto riguarda gli articoli, gli articoli così come proposti alla fine a me sono farsi logici, quindi poi diventa uno, ciascuno può sostenere un'opinione diversa, nell'intento di fare in modo che, come posso dire, le sedute del Consiglio e lo svolgimento dell'attività fosse il più fluido possibile. E passo a quelle cose rappresentate, se ho dimenticato qualcosa, non lo so adesso, ma per esempio a quello che giustamente all'osservazione che faceva la consigliera Vitrotti, non c'è stata una voglia di reggimentare, ma più che altro di regolamentare, di fare in modo che non ci fossero, come posso dire, occasioni per fare soltanto, come posso dire, accademia. Ecco, diciamo così, occasioni. Per esempio quello che prima ha rilevato il consigliere Giuliano, nella pratica abbiamo visto che molte volte la dichiarazione, se uno è soddisfatto o meno, è il modo per introdurre altri argomenti o per porre all'attenzione argomenti che sembrerebbero essere stati disattisi o omessi dall'assessore. Per cui mi pare, io sposerei, mi pare logico e giusto, proprio per evitare questi, dare il modo all'assessore di poter in maniera molto breve fare una piccola replica. Certo, poi qualcuno deve decidere se dargli o meno questa facoltà, quindi non è un voler assumere una posizione di regista da parte della Presidente del Consiglio, ma è un modo per regolare la seduta, tutto qui. Passando, come dicevo prima, invece, alle osservazioni che ci ha fatto la consigliera Vitrotti, alla quale devo dare atto di essere intervenuta più volte, perché è la verità, per esempio, non sempre la presenza è sinonimo di partecipazione, invece la consigliera Vitrotti quando c'è stata ha partecipato, quindi ne devo dare atto. Per esempio, per lo streaming è già risposto, come posso dire, è risposto in maniera esaustiva, penso il consigliere Giannone. In realtà quello che ci interessa è che ci sia una copia integrale di ciò è che sia custodita, perché se no prendere un pezzo di qualsiasi discorso, di qualsiasi accadimento, prendere un pezzo, tagliarlo, fa vedi che ha detto quello, può diventare, proprio per eliminare queste strumentalizzazioni politiche. Un'altra cosa che diceva giustamente la consigliera Vitrotti era quando per gli ordini del giorno, a un certo punto noi che abbiamo, però questa era una cosa che già c'era dal vecchio statuto, mi faceva notare la consigliera Vitrotti che quando recitiamo, dunque ciascun consigliere, possono essere presentati all'articolo 82, ordini del giorno, vale a dire dichiarazioni di intenti mediante le quali sono espressi indirizzi attuativi concernenti esclusivamente la materia della proposta di deliberazione. Questo certo stringe molto la possibilità di intervento, però d'altra parte questo è un consiglio municipale, se incominciamo a parlare dei massimi sistemi non so quanto possa essere compatibile, anche che poi dei riferimenti a circostanze o fatti di carattere, come posso dire, sovramunicipale che però sfodono interessi, non credo che non si possa trovare il modo e la maniera di introdurli e trattarli, anche se brevemente e sinteticamente in questo consiglio. Per quanto riguarda poi la commissione delle lette e delle varie opportunità, certo l'argomento è, io me ne rendo conto che è estremamente delicato, però questo è un discorso adesso, è stata presa una decisione a livello sorordinato rispetto a noi, cioè a livello municipale, è stato deciso di superare quella che era la commissione delle varie opportunità per andare alla commissione delle lette, c'è una norma di legge che a un certo punto disciplina la presenza di uomini e donne all'interno delle commissioni, all'interno delle rappresentanze diciamo in genere e quindi anche lì ci troviamo un attimino stretti, anche se questo a titolo personale debbo dire che probabilmente da quando sono state fatte le prime commissioni delle lette a oggi i tempi sono un attimino cambiati, se noi guardiamo di fatto quella che è la composizione della pubblica amministrazione ci accorgiamo, dovremmo forse fare un ripensamento e vedere, ma non in senso direttore, sì quella sarebbe la prima, ma in senso anche di chiedersi quali sono le effettive esigenze della donna che lavora, perché noi molte volte in virtù di una asserita equaglianza, dimentichiamo come dico spesso, forse per alcune mi ripeto, che la donna è anche madre, è alla casa, magari genitori anziani, tutte cose che comunque gravitano nella sua sfera, proprio per fatto quasi naturale e che quindi invece una sola asserita equaglianza di carriera a un certo punto nulla agevola e nulla aiuta, però ripeto è un terreno estremamente articolato, ci potremmo fare, però ripeto noi siamo stati, diciamo così a un certo punto l'alveo era tracciato e su quell'alveo ci siamo dovuti necessariamente insinuare, no niente, quindi in realtà questo era quello che mi viene in mente di dire, non di più, si è cercato di fare un lavoro adeguato a quella che è la situazione attuale, questo non significa che l'esperienza successiva non ci possa suggerire delle ulteriori modifiche e degli aggiornamenti, non è assolutamente vietato, questo serviva però per ora perché entro un certo termine dovevamo comunque adeguarci, come da lettere di richiamo superiori, dovevamo adeguarci a quella che era l'impostazione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio comunale. Grazie per l'attenzione, credo di aver risposto a tutto. Dicharazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni? Sì, vi trotti? Grazie Presidente, devo dire che devo ringraziare gli interventi del Capogruppo del Movimento 5 Stelle, in parte anche del Vice Presidente del Municipio per avermi ulteriormente tolto ogni dubbio rispetto alla nostra predisposizione, quello che volevamo fare, in parte ce l'avete confermato e pertanto il Partito Democratico voterà contro. Altre dichiarazioni di voto? Sì? Io non faccio parte della Commissione, perciò non ho partecipato al dibattito che si è svolto, come ha detto il Presidente della Commissione, tante sedute, avrei voluto partecipare, io comunque non sono intervenuto perché condivido perfettamente quello che è l'intervento che ha fatto l'amico del centrodestra, senz'altro condivisibilissimo e proprio rispettando questo intervento, che poi voglio dire è quello che io penso rispetto al regolamento, l'espressione di voto sarà per l'astenzione. Altre dichiarazioni? Grazie Presidente. E proprio in virtù dell'intervento del capogruppo del 5 Stelle e del capogruppo del PD, ci ha noi di Fatelli d'Italia reso più chiari alcune cose e quindi proprio per questo, per non cascare nella realtà cittadina, Fatelli d'Italia si astiene per quanto riguarda questa delibera. Grazie Presidente. Per le ragioni che ho introdotto nella forma e nella sostanza delle parole e del significato, sono andato a trovare due parole importanti mentre relazionavano alcuni consigli tra dovranno e potranno. Qui è una differenza straordinaria, per cui le parole sono la sostanza, le parole sono l'anima delle cose e noi ci diamo da fare per soffocarle, sia quando vengono dette dai consiglieri, sia quando vengono dette a volte dai cittadini, ma scaurarsi dietro un regolamento che tutela esclusivamente una parte, è già stato sconsigliato e ho sempre detestato le maggioranze che andavano in cammino subito nella direzione del cambiamento di regolamenti. Io trovo, come dire, alquanto sconcertante che si è messo mano un po' dappertutto, anche se poco, però vedete poi una parola scelta, la parola in grigetto o la parola in neretto, che una è dovere e l'altra è potere. C'è una grande differenza, cioè tra il dovere e il potere. Questo è tutto. Ho trovato questo non ho da discutere sulla forma e sulla correttezza formale di quello che lei ha inviato correttamente, tutto preciso, in eretto, non in eretto. Io sto dicendo che rispetto a quello che sentivo, e naturalmente qui è il luogo per dire quello che penso. La Commissione, ahimè, io non ne faccio parte, però questa è l'aula suprema dove noi prendiamo le decisioni. Io ho portato all'attenzione alcuni punti che ritengo piccoli ma importanti. Non parliamo del 46, ne ha parlato qualcuno prima di me, l'articolo principe che poi i cambiamenti non so dove arriveranno e dove porteranno. Proprio per questo io ripeto non ci sono le condizioni affinché io possa votare un regolamento formulato in questi termini e con questi cambiamenti. Grazie. Grazie Presidente. Ovviamente il Movimento 5 Stelle sarà a favore, anche perché siamo a favore perché non accettiamo alcune dichiarazioni, perché alcune credo che siano veramente pretestuose e quando si dice che non garantisce la parità tra la maggioranza e l'opposizione questo non lo trovo giusto, anzi forse penso che sia il contrario, in quanto se parliamo di streaming stiamo dando la possibilità a tutti di attingere a un video e non che se io vengo a fare un filmato ovviamente me lo metto sulla mia pagina, io che sono della maggioranza o viceversa devo andare sulla pagina del consigliere che l'ha fatto e lo devo condividere cioè faccio un esempio, quindi dà la possibilità a tutti, quindi si chiama democrazia questa di poter attingere a del materiale che è uguale per tutti e soprattutto nella sua interezza per quello, non solo, ma anche il discorso di un'interrogazione, io credo che le interrogazioni servano proprio nel proprio interesse affinché si possa riportare ai cittadini, quindi nell'interesse dei cittadini affinché quel problema si vada a risolvere. Ora, se io non ho capito e non non ho percepito determinate cose perché è capitato, come diceva prima il consigliere dice no, non sono d'accordo perché bisognerebbe dare la risposta ferma, quindi sono d'accordo per questo e basta, è chiuderla là. Purtroppo non avviene mai, dal momento che non avviene mai bisogna regolamentarlo, ecco perché. E questo serve in funzione del fatto che deve essere il mio interesse in primis se non ho capito qualcosa a sentire l'assessore che mi dà una risposta idonea, anche per poter riportare ai cittadini una problematica del territorio. Se ho l'interesse in questo, se no altrimenti diventa solamente il giochetto politico, la strumentalizzazione politica, allora va bene, ci sta, però a quel punto il regolamento sono due le cose, dobbiamo andare a cambiare totalmente quello che è il significato dell'interrogazione. Allora, io credo che ribadire alcuni concetti senza, tra virgolette, avere anche, primo, consapevolezza di quello di cui si è parlato in commissione, oppure comunque cercare sempre, è il solito modo di rigirare le parole di quello che uno dice, va bene, ci sta, è strumentalizzazione però, grazie. Allora, è andata via la consigliera L'Ambicio, quindi consigliera Triputi, diventa lei sfruttatore, favorevoli, contrari, astenuti. Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, 4 contrari, astenuti, concessa. Passiamo al punto 2, all'ordine dei lavori e informo subito i consiglieri che la consigliera Biondo ha chiesto l'estensione per il suo intervento, sino alla durata di 30 minuti. Allora, proposta di deliberazione di iniziativa dei consiglieri Giannone, Guido, Principato, Ferrauto, Giuliano, Toti, Tosatti, avente ad oggetto approvazione delle linee guida per l'affidamento della gestione del teatro di Villa Lazzaroni, lascio la parola al relatore. Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri, presentiamo oggi questa proposta di deliberazione che abbiamo preparato durante numerose riunioni di sedute di Commissione, della Commissione Quinta, negli scorsi mesi. Dunque, come sapete il teatro è stato riaperto il 27 marzo 2018, quest'anno, il 27 marzo ricordo è anche la giornata mondiale del teatro, abbiamo scelto questa data proprio per enfatizzare questa riapertura. È una riapertura che è avvenuta dopo anni di chiusura, dopo un periodo di lavori che sono costati all'amministrazione e ai cittadini circa 875 mila Euro stanziati nella scorsa consigliatura, ma che purtroppo non sono stati sufficienti perché potesse vedere la luce, il teatro nella nuova veste per tempo. Noi quando siamo rientrati abbiamo ripreso in mano la situazione, abbiamo terminato i lavori necessari per rendere comunque lo spazio agibile, richiedendo anche tutte le certificazioni richieste, fino all'ultima è stata quella dei vigili del fuoco e il 27 marzo l'abbiamo aperto come spazio, diciamo, eventi, come abbiamo già discusso questo aspetto in commissione, di fatto però per diventare un teatro c'era bisogno ancora di fare alcuni interventi di carattere legati all'attrezzatura e non chiaramente all'edificio, quindi alla parte strutturale. Per questo motivo noi abbiamo anche discusso la modalità con cui la gestione di questo teatro dovesse avvenire. Nelle commissioni che ho convocato sul tema hanno partecipato molto assiduamente e ringrazio pubblicamente i cittadini e le associazioni che hanno partecipato per costruire insieme queste linee guida, per così individuare, capire, dare le indicazioni agli uffici su come, su quale modalità fosse la più adeguata, la più alle esigenze sia del territorio sia alle aspettative stesse dei cittadini e della cittadinanza. Oltre alle associazioni culturali del nostro municipio hanno partecipato anche il comitato di quartiere della zona. C'è stata molta aspettativa, molta partecipazione, alla fine sono contento che adesso con questo atto si possa dare inizio al percorso amministrativo. Vediamo quindi un po' nel dettaglio queste linee guida, che tipo di indirizzo delineano sulla modalità di affidamento. Intanto abbiamo sancito una cosa molto importante, questo spazio deve essere mantenuto con una finalità prettamente teatrale, rivolta alla realizzazione di spettacoli e tutto ciò che ha a che fare con attività artistico e culturale, legata alle arti performative, quindi alla danza, alla musica, al teatro, come modalità principale. Vogliamo dotare il territorio, vogliamo restituire al territorio un teatro e non uno spazio generico, un teatro in cui all'interno, oltre agli spettacoli, poi si possono anche fare attività correlate, quindi laboratori per i ragazzi, per i giovani, ma anche per gli adulti, attività formative, insomma anche quelle attività collaterali che si portano insieme diciamo uno spazio dove si fa del teatro. Abbiamo anche voluto grazie abbiamo anche voluto enfatizzare la necessità di poter fare in modo che la gestione non precludesse l'utilizzo dello spazio alle realtà cittadine e in tal senso abbiamo chiesto che colui che prenderà in gestione dovrà in qualche modo garantire, riservare 60 giornate all'amministrazione. È importante perché se noi diamo in concessione uno spazio pubblico quindi con una modalità naturalmente non a prezzi di mercato, bisogna anche che chi ne benefici possa restituire al territorio, alla cittadinanza, questo vantaggio in una modalità diversa che non economica naturalmente, ma attraverso la possibilità di poter utilizzare il teatro stesso. Per cui in queste 60 giornate il municipio potrà organizzare le proprie attività culturali, utilizzarle per le iniziative che autonomamente organizza, potrà insieme alle scuole far utilizzare gli spazi ai ragazzi e potrà anche concedere l'utilizzo del teatro alle associazioni del territorio, associazioni culturali del territorio che vogliano farci attività artistico-culturale. È una forma di apertura al territorio che abbiamo ritorno a essere necessaria per poter restituire appunto al territorio la funzione del teatro. Abbiamo anche però voluto garantire tutti i cittadini sulla offerta culturale e quindi abbiamo anche chiesto che chi prenderà in gestione il teatro dovrà garantire 170 giornate di apertura complessive, quindi tra le 60 e le altre giornate ci dovranno essere delle aperture al pubblico minime di cui abbiamo chiesto che 75 debbano essere di giornate di spettacolo. Con questo cosa voglio dire che abbiamo voluto mettere dei paletti molto importanti affinché il teatro possa effettivamente svolgere la sua funzione e non solo un modo per concedere un bene ad un privato che poi dopo senza alcuna altra possibilità ci fa dell'altro. Chiaramente tutti questi numeri non sono stati determinati a caso ma sono venuti fuori da un'interlocuzione con associazioni che già lavorano nel settore che ci hanno indicato in questi numeri dei numeri sostenibili. C'era chi addirittura diceva che almeno 90 giornate di spettacolo si fanno, noi abbiamo voluto mantenerci un po' più bassi per non sembrare troppo restrittivi, quindi in qualche modo chi prenderà in gestione questo teatro dovrà garantire 75 giornate di spettacolo dal vivo. Un altro elemento caratteristico che abbiamo voluto inserire nella modalità di gestione di questo teatro è la creazione e la costituzione di un comitato consultivo territoriale, cioè un comitato di formato non solo dal municipio e dal direttore artistico ma anche da una folta rappresentanza di quella che è la parte civica, cioè i comitati di quartieri, docenti e studenti maggiorenni. Abbiamo pensato a questo comitato come un momento, quindi un luogo di restituzione quindi del concessionario verso la cittadinanza ma anche come organo di supporto alla direzione artistica che potesse in qualche modo dargli la possibilità di conoscere il contesto, il territorio in cui andrà a muoversi, siccome questo lo ritieniamo importantissimo per il buon esito di tutta l'operazione perché non basta solo dare in concessione il bene, bisogna organizzarci le attività e bisogna organizzarle in modo oculato e soprattutto tenendo conto del territorio. Abbiamo previsto anche la possibilità che tutta l'azione fosse sostenibile da parte di un concessionario perché sappiamo che gestire un teatro non è come gestire un'attività commerciale, un esercizio commerciale naturalmente, ci sono più costi, ci sono tutto un'attività una serie di variabili anche aleatorie per cui ci è stato chiaramente detto che è più complicato di portare avanti una semplice attività commerciale e quindi abbiamo voluto anche in qualche modo dare la possibilità al gestore del futuro concessione di poter gestire l'aspetto economico. Quindi è chiaro che il teatro prevederà un cartellone con ingressi a pagamento ma abbiamo dato anche la possibilità a chi gestisce il teatro, a chi gestisce il teatro anche di utilizzare gli spazi e affittarli per in qualche modo averne un ritorno, affittarne sempre per farne attività legate al teatro, quindi non affittarne per venderci merci o altro ma per creare laboratori, sempre attività integrative. Quindi diciamo come si potrà sostenere questo teatro? Il teatro si sosterrà attraverso la bigliettazione, quindi le modalità remunerative classiche di chi lavora nel settore, di chi organizza spettacoli, eventi, cartelloni ma anche attraverso il finanziamento delle persone che partecipano ai corsi e ai laboratori. ci sarebbe dato anche la possibilità di aprire un punto ristoro all'interno e quindi la possibilità che da questo punto ristoro possa prodursi una forma di remunerazione. e chiaramente nella modalità... Il lavoro è giardone, si avvia la conclusione del tempo... Sì, grazie. Questo è un po' il panorama che lo scenario che si presenterà a chi vorrà partecipare e noi riteniamo che sia una grossa opportunità. Non ho detto una cosa, il tutto come dicevo in anticipo, in apertura il teatro, pur essendo terminato nella struttura, è mancante ancora delle strumentazioni tecniche, quindi luci, audio e sedute. Purtroppo il municipio non ha sufficienti risorse per poter realizzare, per acquistare queste ultime attrezzature e quindi le sedute, pertanto verranno messe, se non cambia la situazione naturalmente, verrà messa a bando la gestione includendo queste spese. Queste spese che però verranno incluse nel calcolo della concessione e pertanto, così come previsto dal codice degli appalti, il concessionario potrà avere un... potrà essere... potrà aver restituito l'investimento attraverso un allungamento della concessione, così come previsto dal codice degli appalti. è sicuramente un momento importante perché ci accengiamo adesso a far avviare un percorso amministrativo che vede un bene da tanto tempo richiesto, di cui si chiedeva l'apertura da moltissimo tempo e noi ci auguriamo che al più presto si possa vedere aperto il teatro anche nella sua funzione più specifica. Grazie. Grazie Relatore Giannone. Allora, apriamo la discussione per gli interventi. Vedo già che il Consigliere Ciancio si prenota. Vuole intervenire? Grazie. Grazie Presidente. Ne ho facoltà. Grazie. Voglio essere preciso e puntuale, ripeto quello che ho già detto in commissione, fin dalla prima commissione che è stata fatta su questo argomento. Mi domando chi lo prenderà in gestione? me lo faccio questa domanda attraverso queste linee guida. Chi lo prenderà in gestione? Queste linee guida, l'ho già detto, non pongono sullo stesso piano gli operatori che vorrebbero partecipare. Per un semplice fatto, perché qua bisogna mettere le risorse per comprare l'arredo, comprare le luci, comprare tutte le attrezzature. Quindi sicuramente ci saranno delle associazioni che hanno delle risorse. E questo già l'ho detto in commissione, io conoscendo il panorama un po' delle associazioni, non è facile trovare associazioni culturali in questo momento che hanno, come dire, la possibilità di spendere del denaro per avere questo tipo di attività che poi, tra parentesi, dovrà essere valutata da un'analisi finanziaria che dica se va bene o male. Assolutamente! Proprio per questo in commissione io ho suggerito di... Guardate, la vicenda è lunga del teatro di Villa Lazzarone. Siamo partiti con una commissione in logo dove la maggioranza attuale ne ha sparate di cotte e di crude dicendo che i soldi, non erano stati spesi i soldi, che cosa era successo, come mai. Poi alla fine siamo andati lì sul posto, abbiamo visto che tutto era stato fatto, funzionava, le carte erano a posto, però ci siamo sorbiti tutti quei rimproveri che un'amministrazione comunque, perché chi fa sbaglia sempre, naturalmente può sbagliare, però voglio dirvi, sul teatro di Villa Lazzarone è stata fatta una grande battaglia per riaverlo, perché qualcuno dietro procedimenti errati e a volte linee guida che appaiono congruenti si celano dei vizi di forma che consentono a chi prende in gestione un teatro, un bene pubblico di non restituirlo. Allora, dietro il fatto che c'è qualche associazione o gruppo ipotetico che non ha nulla a che vedere con la tipologia delle associazioni culturali, possa pensare di fare squadra per mettere i soldi e prendere un teatro, e di teatro non sa neppure che cosa possa essere, io non ci sto. Quello che abbiamo discusso in commissione sulla cultura, tutte le premesse, le condivido in pieno, caro Presidente, lei si è fermato perché voleva l'attenzione, io so fermarmi perché gradirei attenzione, grazie. Si è fermato, grazie. Stavo dicendo, le premesse le condividiamo, le condividono i cittadini, le condividono le associazioni, però poi nei fatti avviene questa cosa molto strana, cioè che un'amministrazione come quella di Roma non riesce a reperire una piccola sombra per comprare le sedie, per comprare le poltroncine, per comprare l'attrezzatura e fa un regolamento di linee guide dove praticamente si chiede all'affidatario di comprarle. Le sei comprerà sicuramente, le compreranno, però poi faranno molte, molte storie sui tempi dell'affidamento. Tra parentesi, quell'articolo che dice che entrano in piena proprietà dal giorno dopo che le mettono da parte del Comune di Roma. Voglio vedere. Vado ancora su altri punti importanti che mi hanno colpito, l'ho ridetto in Commissione, lo ridico, direttore artistico. Il direttore artistico che l'operatore nomina dovrà concordare le linee progettuali programmatiche con l'amministrazione. Bene. Poi c'è un articolo però che dice tassativamente che non si deve fare politica, concordare le linee progettuali con l'amministrazione è un po' paradossale. Io non penso che un direttore artistico debba concordare la tipologia degli spettacoli. Se già abbiamo messo un articolo in cui c'è scritto che praticamente i valori sanciti della Costituzione, giustamente lo condivido, professando e praticando comportamenti faziosi, razzisti, omofibi, transfobici e sessisti. Giusto, tutto giusto, caro Presidente, però perché c'è un trafiletto a parte dove il direttore artistico deve concordare le linee progettuali con l'amministrazione? Ripeto, se vogliamo far partire tutte le associazioni dallo stesso traguardo, belli, brutti, grandi, piccoli, dovremmo fare una cosa molto saggia, visto che ci interessa il progetto e l'abbiamo ripetuto molte volte nelle premesse, associazioni non possiamo pretendere che si sostituiscono all'amministrazione. Ho già detto in Commissione che esistono risorse finanziarie di altri enti. Ho fatto l'esempio di alcuni istituti che hanno avuto le poltroncine finanziate dalla regione Lazio ed erano 900 posti. Ho detto che ogni anno esiste una delibera regionale dove si attinge, dove il municipio può presentare una domanda per avere risorse ed è la strada maestra. Per me questa rimane la strada è la strada maestra. Non si può pretendere da associazioni che praticano la cultura nel nostro territorio una spesa così esosa. Giriamo intorno ai 70-80 mila Euro per mettere a posto il teatro. Non abbiamo carte da parte dell'ufficio tecnico ma so bene di che trattasi. Caro Presidente, cari consiglieri, sono rimasto compiaciuto del fatto che il 27 marzo è stato inaugurato in concomitanza della giornata mondiale del teatro. Si è fatto qualcosa in quel teatro? Io non l'ho saputo altrimenti avrei partecipato. Quindi la scuola Ettore Rolli ha presentato una mostra fotografica se non mi sbaglio. L'assessore ha comprato addirittura i cavalletti per poter esporre, fare esporre. Poi non sono stati manchi, voglio dire, non so a che titolo penso che si sia esposto un po' troppo e la ringrazio perché non è da tutti però non può funzionare così. Però poi ci sono delle risposte dei cittadini quando si mettono sul sito queste iniziative. Dice sì, una bella cosa, tutto va bene, abbiamo riaperto, però qualcuno poi si domanda. Bellissima notizia. Però si aspettano un'apertura vera del teatro. Con queste linee guida e noi dovremmo aspettare comunque un anno. E io dico che a se stiamo in bilancio nuovo, io avrei rinunciato assolutamente a qualsiasi altro pezzo di ristrutturazione, qualsiasi altro emendamento sul bilancio, ci avrei rinunciato perché è una parte importante, l'abbiamo analizzato, l'abbiamo guardato, abbiamo fatto i sopralluoghi, è nuovo, si perde. E' ovvio lasciando ancora lì inutilizzato rischiamo di dover spendere altri soldi per la copertura, per le infiltrazioni. Sai, quando non viene utilizzata un'opera si degrada facilmente, per cui io sono d'accordo. Però questa strada, soprattutto quella dei permessi, cari Presidenti, quella dei permessi, quella del nulla osta dei vigili del fuoco, che la chiedete alle associazioni, ma non sapranno neppure da dove iniziare. Un'associazione che deve preparare le carte per richiedere il nulla osta antincendio, domandatelo a Bianniobi. Tempo scaduto. Sì, grazie. Domandiamolo ai nostri tecnici quanto è già difficile avere il nulla osta dei vigili del fuoco. Quindi questo metodo e questo regolamento preclude, per il senso nobile che ho, dell'arte, della cultura. Io non posso dire di no all'apertura, perché quando apre un teatro e apre la cultura, più cultura vuol dire la cosa più bella che c'è, però non è questa la strada. Io potrei fare l'esempio di dieci procedure che avete avviato, ma dieci procedure sono rimaste sulla carta. Questa è una di quelle. Io inviterei a riflettere su queste linee guida, di non lanciare l'idea assurda che chi ha soldi prende. Già qualcun altro l'ha fatto prima di voi, con risultati errati. E mi riferisco naturalmente ai governi, basta, non finisco qua. Presidente, non voglio dilungarmi, ascolterò con attenzione gli interventi della maggioranza. I punti li avevo segnalati con una dichiarazione puntuale nei verbali, li rimarco in aula perché dico ripensateci su queste linee guida, perché ci sono dei punti che andrebbero assolutamente cambiati. Grazie. Interventi? Ci sono interventi? Grazie Presidente. Speravo che qualcun altro volesse intervenire perché ora sarò lunga e mi dispiace, però come gli altri componenti della Commissione sanno, è un lavoro che facciamo da tanti mesi e quindi secondo me merita particolare attenzione. Anche perché è uno di quegli argomenti che più di altri interessano e riguardano la popolazione del nostro municipio e quindi io credo che anche su alcuni passaggi che abbiamo fatto in Commissione questo sia il luogo e l'occasione non solo per raccontare agli altri colleghi che cosa abbiamo fatto, ma anche per raccontare ai cittadini che vorranno vedere la diretta di questo Consiglio, la discussione e le riflessioni anche di maggioranza e opposizione su questo argomento. Ringrazio chi ha presentato questo atto perché ha iniziato esattamente come avrei iniziato io, ovvero dal 26 marzo, la data in cui la Presidente Lozzi e la sua squadra annunciavano al pubblico l'apertura del teatro di Villa Lazzaroni dicendo oltretutto che a breve, perché sono andata a rivedermelo il video qualche giorno fa, a breve si sarebbe fatto il bando per assegnarne la gestione. Ora, al netto del fatto che ci vuole coraggio a dire a breve, adesso sono passati sei mesi e ancora stiamo alle linee guida, quindi prima che vedremo la pubblicazione del bando e quindi l'assegnazione ne passeranno probabilmente altri sei, però raccontare ancora una volta oggi, dopo sei mesi, che il teatro di Villa Lazzaroni è aperto al pubblico è una bugia. è uno spazio, dal 26 marzo quello è uno spazio eventi aperto al territorio, qualcuno in questo territorio se ne ha accorto? Possiamo essere sinceri tra di noi? Quali eventi sono stati organizzati nel teatro di Villa Lazzaroni dal 26 marzo ad oggi? Chiediamola ai cittadini di quel quartiere, perché se l'apertura di un teatro è tagliare un nastro e fare un video su Facebook, forse ci dobbiamo chiarire su che cosa intendiamo tutti noi per un teatro aperto sul territorio. Io definisco teatro aperto al territorio un teatro nel quale i cittadini possono entrare e possono vedere degli spettacoli, questo ad oggi non mi sembra così e quindi raccontare che il teatro di Villa Lazzaroni è aperto, ripeto, è una bugia. Fatevi un giro anche voi, dato che ci state spesso a Villa Lazzaroni e chiedete a qualcuno che frequenta quella villa se sanno che il teatro è stato riaperto al pubblico e vi diranno che lo aspettano da tanti anni ma che ancora non è aperto e oltretutto di fronte agli ingressi in questo momento è pieno di erba alta e di legname che è rimasto lì da mesi, ce la vogliamo dire la verità e sapete perché non lo sanno? Semplicemente perché non è vero, perché il teatro di Villa Lazzaroni non ha riaperto ancora, quindi oggi che lo dicevate il 26 marzo con tutte le buone intenzioni di farlo in pochi giorni o in pochi mesi, diciamo, poteva anche passare, ma che oggi in questo consiglio a sei mesi da quella data ci continuate a raccontare che il teatro di Villa Lazzaroni è aperto al pubblico, è diciamo abbastanza ridicolo. Aprire un teatro non significa dichiarare conclusi dei lavori o fare un'inaugurazione, significa che le persone sanno che lì dentro ci possono entrare, sanno che lì dentro c'è una programmazione culturale, fino ad allora il teatro di Villa Lazzaroni non è aperto al territorio. E sei mesi dopo appunto oggi succede che il teatro e la villa, soprattutto versa in condizioni di degrado, sappiamo anche delle voragini di Villa Lazzaroni degli ultimi giorni, i materiali accatastati, l'erba alta e soprattutto, dicevo prima, senza un vero passo avanti verso l'apertura, perché oggi sicuramente un passo avanti viene fatto, vengono approvate delle linee guida, ma il 26 marzo veniva promessa l'apertura e la pubblicazione del bando per l'assegnazione della gestione a breve, ora io non so che cosa intendiamo per a breve, forse anche questo dovremmo nel glossario inserirlo nel regolamento, però per me a breve non significa che dopo sei mesi neanche è stato pubblicato il bando, sono state semplicemente fatte delle linee guida e sappiamo che per spiegarlo anche a chi sta fuori di qui, l'iter adesso prevede che una volta che verranno approvate queste linee guida si darà mandato agli uffici per fare il bando, ci vorranno dei tempi tecnici per fare un bando che sarà anche un bando particolarmente complicato, nel momento in cui verrà pubblicato il bando sarà aperto per un periodo mi auguro congruo, verranno raccolte le proposte, ci sarà una commissione di valutazione, verranno valutate le proposte, verrà stabilito l'assegnatario e poi a quel punto l'assegnatario potrà entrare nel teatro di Villa Lazzaroni, acquistare le attrezzature mancanti, montarle, stabilire la programmazione culturale, ecco diciamo che se arriviamo alla fine della vostra consigliatura siamo stati comunque tutti quanti molto bravi, ma diciamo che metterci cinque anni non è a breve. Dico questo perché oltretutto, ma non per sminuire il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi in commissione, perché effettivamente di questa cosa ne abbiamo parlato a lungo e dopo varie riunioni di commissione in cui avevamo preso le linee guida, poi le abbiamo abbandonate per un periodo perché l'amministrazione e la maggioranza soprattutto dovevano chiarirsi le idee, dopo riunioni come ha ricordato il presidente della commissione hanno visto la partecipazione delle associazioni culturali del municipio, di esperti del settore e tanti altri due settimane fa le abbiamo approvate in commissione ed oggi queste linee guida arrivano in consiglio. Ma per spiegare che cosa intendiamo per linee guida, perché sennò poi domani qualcuno va in giro per il territorio a dire che è stato fatto il bando per l'assegnazione del teatro di Villa Lazzaroni, non è così, perché le linee guida sono, correggetemi se sbaglio, una sorta di vademecum delle linee di indirizzo con cui la politica dà le indicazioni agli uffici municipali per scrivere e poi per pubblicare il bando per la gestione del teatro, ovvero rappresentano un passaggio fondamentale perché vengono elencate le priorità che disegnano l'impianto, la visione, l'idea che questa amministrazione e questa maggioranza ha delle politiche culturali del municipio. E allora se questo è quello che si racconta nelle linee guida per l'assegnazione del teatro di Villa Lazzaroni, dobbiamo dire che i punti salienti sono innanzitutto che, l'avete detto prima di me, il bando impone al gestore di acquistare tutte le attrezzature mancanti, ovvero le poltroni, le quinte, gli impianti audio-video e tutte le autorizzazioni per poter eventualmente aprire all'interno del teatro un bar e poi però adesso le leggiamo perché sono diciamo un elenco che fa paura. E diciamo, alcuni dicono, prima il consigliere Ciancio diceva 70-80 mila euro, altri dicono 100-120-150, io mi scuso a nome di questo luogo, nei confronti di chi ci sta guardando per questa vaghezza che noi ancora oggi, dopo appunto sei mesi, abbiamo rispetto alla stima della spesa che deve essere fatta all'interno del teatro di Villa Lazzaroni per renderlo utilizzabile. Perché? Mi scuso di questa vaghezza perché in questi due anni comunque non siamo riusciti a fare un piano economico finanziario che rendesse evidente quali fossero le spese da sostenere, i costi fissi che il gestore dovesse sostenere inizialmente, gli investimenti da fare, le potenzialità economiche e quindi di guadagno del teatro, un piano finanziario che indicasse quale dovesse essere il costo massimo dei biglietti per un teatro che deve rimanere un teatro di quartiere. Insomma, un approfondimento che noi abbiamo chiesto tante volte in Commissione che valutasse la sostenibilità economica di questa sfida che ci trova d'accordo ma che senza numeri ci fa parlare un po' di aria fritta. Oltre a questo impegno, non so a questo punto se dire il fortunato gestore o forse più lo sfortunato gestore, dovrà anche corrispondere al municipio un affitto mensile che oltretutto nelle linee guida viene esplicitato che il criterio di selezione dell'affidatario è un'offerta migliorativa rispetto al canone di affidamento, quindi anche a rialzo rispetto a quello che sarà stabilito il canone di affitto. Chi ci può pagare di più allora avrà più punti per gestire il teatro. Passatemi il termine, una serie di elementi che rendono insostenibile per qualunque associazione culturale del nostro territorio ma di tutta la città, come hanno fatto più volte notare le associazioni in commissione che però su questo non hanno ricevuto una risposta che fanno risultare insostenibile la gestione da parte delle associazioni. Io però vorrei anche leggere a tutti quanti gli altri consiglieri, perché magari non tutti hanno avuto modo di leggere le linee guida, quali sono gli obblighi che vengono richiesti al futuro gestore del teatro di Villa Lazzaroni. Perché appunto è un elenco che fa paura e fa paura a noi figuriamoci diciamo al tessuto associativo di questo municipio. Allora dovrete avere pazienza. L'affidatario nella conduzione del teatro per l'interio periodo di affidamento si impegna a rispettare i seguenti punti. Garantire l'esecuzione della programmazione artistico-teatrale fin qui. Garantire il numero minimo di giornate o annue di apportura al pubblico. Garantire un servizio di sicurezza degli spazi H24 per 365 giorni l'anno, che è una spesa diciamo rilevante. Gestire il servizio di biglietteria. Gestire i servizi di sala, accoglienza, informazione e gestione dei flussi di pubblico. Garantire interventi di manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi, degli impianti, delle dotazioni tecniche e di tutto quanto affidato e mantenerli in buono stato di manutenzione. Garantire il servizio di pulizia ordinaria dei medesimi spazi e dotazioni di cui è il punto precedente, anche in occasione di spettacoli ed eventi, compresa la fornitura di prodotti e attrezzature relativa a manutenzione. Garantire i servizi tecnici di palcoscenico. Garantire attività di comunicazione e promozione. Gestire i locali e le attività realizzate a proprio esclusivo rischio e pericolo, con esonero dell'amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi. Attivare e volturare tutte le utenze, comprese quelle telefoniche di connettività DSL necessarie. Pagare la Tari. Verificare e monitorare periodicamente impianti e attrezzature secondo le cadenze temporali previste ex legge. Fornire servizi di gestione dell'emergenza e manutenzione ordinaria antincendio. Dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie in caso si voglia utilizzare lo spazio per la somministrazione di bevande. Buona fortuna. Garantire lo smaltimento dei rifiuti classificati e cerniti e relativa collocazione nei siti destinati per tale scopo, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Garantire l'attività di gestione del personale di competenza e le attività relative alla retribuzione degli artisti e del personale di riferimento tecnico e di servizio, comprendendo il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali sulla base della normativa vigente. Far ridere anche la maggioranza. Perché ridete? Far ridere. L'avete scritto voi. Dico in italiano pulito, preciso. Pulito. Eh sì, lo so, che non dico amo fatto, amo detto. Non è da tutti. Provvedere alla copertura assicurativa degli artisti e del personale di riferimento tecnico e di servizio che utilizzerà i luoghi a fia anche nei giorni riservati all'amministrazione. Provvedere alla copertura assicurativa degli utenti fruitori degli spazi affidati con responsabilità verso terzi. Stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dell'eventuale inadempienza del soggetto affidatario. Versare un adeguato deposito cauzionale. Farsi carico delle spese inerenti alla programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività realizzate, comprese quelle relative agli eventi, i cachet e gli spettacoli, i noleggi, i servizi tecnici o in qualsiasi altro onere comunque conseguente alla gestione della struttura. Farsi carico degli oneri e obblighi di legge previsti in materia di impiantistica e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza con anche specifico riferimento alle attività di pubblico spettacolo. Redigere e mantenere aggiornata a disposizione dell'amministrazione locale apposita scheda delle manutenzioni periodiche eseguite. Esercitare la pubblicità all'interno dei locali interessati nel rispetto della normativa vigente. Garantire le adempimenti e i pagamenti sia e ad eccezione di quelli relativi ai soggetti terzi. pubblicare il bilancio annuale, acquistare gli arredi interni e la strumentazione tecnologica oggetto del completamento del teatro liberi da qualsiasi vincolo sugli stessi e cederli al municipio perché poi viene anche stabilito in un articolo precedente che tutte le attrezzature e il mobilio acquistato entra immediatamente nella proprietà e disponibilità del municipio e diciamo che non c'è anche donare il sangue tre volte a settimana, non c'è, però diciamo questa è la situazione. Non sfuggirà a nessuno, ho cercato di leggere in maniera quanto più asettica possibile perché tanto penso che questo elenco parla da solo, ma non sfuggirà a nessuno che in questo modo gli adempimenti di cui dovrà farsi carico il gestore saranno tanti e tali che inevitabilmente stiamo escludendo dalla partecipazione a questo futuro bando una grandissima fetta di potenziali partecipanti che rischiano di non riuscire dati i costi che abbiamo elencato a garantire un servizio al quartiere a prezzi popolari così come dovrebbe essere perché delle due l'una o si riescono a mantenere tutti questi costi di gestione e una programmazione culturale adeguata facendo però pagare un biglietto che necessariamente deve ammortizzare il costo di gestione dell'attività oppure non si fa pagare un biglietto basso come dovrebbe essere dato che rimane comunque un teatro di quartiere e dato che lo esplicitiamo giustamente nelle premesse di queste linee guida e però rendendo la gestione economica impossibile o peggio rischiamo di dare in gestione il teatro non in base alla qualità dell'offerta artistica e culturale ma al miglior offerente l'abbiamo anche scritto a chi ci promette un canone d'affitto maggiore e quindi io dico senza accusare ma voglio che oggi questa cosa sia anche messa a verbale perché voi sempre lo fate ma ci tengo a sottolinearlo che io ho paura che questa che è una grandissima opportunità per il nostro territorio si trasformi nell'ennesima speculazione a danno del quartiere. Come facciamo a garantire una programmazione culturale che risponde, lo vedo anche dalle linee guida, allo sviluppo culturale del territorio e che risponde al disagio sociale, al disagio giovanile non riuscendo a garantire dei prezzi calmerati e quindi una funzione di pubblico servizio a questo teatro ma c'è di più per le associazioni del municipio perché nelle linee guida viene anche esplicitato che le associazioni del territorio, quelle iscritte al nostro registro che hanno partecipato alle commissioni e che chiaramente diciamo hanno sempre esposto la necessità e la mancanza di spazi culturali nel quartiere in cui poter svolgere le loro attività, motivo per il quale sono sempre state invitate perché dovevamo riuscire a rispondere anche a questo tipo di esigenza, dovranno seppure a prezzi contenuti corrispondere un affitto per l'utilizzo della sala. Ma ora io capisco che i conti non tornano, ma lo conoscete il tessuto associativo del nostro quartiere. Secondo voi loro si lamentano di non avere una sala in cui poter fare le prove musicali, teatralie, ma possono pagare l'affitto al teatro di Villa Lazzaroni per quanto a prezzi calmerati? Il tessuto associativo di questo territorio è fatto da persone volontarie che spesso ci rimettono i soldi di tasca propria con risorse private che di certo non riusciranno ad usufruire di questo servizio che pure nelle intenzioni di questa amministrazione era dedicato al tessuto associativo. Allora ci dobbiamo chiedere se le nostre intenzioni poi vanno incontro effettivamente alla domanda che c'è sul territorio e alle possibilità. Io credo anche in questo caso che questo non sarà così. Aggiungo altre cose che come sapete ho già avuto modo di dire in commissione. Quanto tempo ho Presidente? Ok grazie. Ecco, poi dal punto di vista della partecipazione del territorio va bene il comitato consultivo che citava il Presidente, speriamo riesca a funzionare perché poi le modalità elettive sono piuttosto complicate ma io in questo non entro perché se invece ci riusciamo tanto di cappello, ma dal punto di vista della partecipazione del territorio le linee guida vietano all'interno del teatro l'organizzazione di eventi, dico io seppure a pagamento, di carattere religioso, politico e sindacale, con a mio avviso una censura pericolosa rispetto a delle organizzazioni che esistono nella nostra Costituzione. Faccio degli esempi. Se ad esempio la UIL, così non dico la CGL, volesse organizzare un convegno sul caporalato all'interno del teatro di Villa Lazzaroni o la comunità di Sant'Egidio, un incontro sull'accoglienza delle parrocchie dei profughi siriani, quindi ha qualcosa a che fare anche con la politica, non potrebbero farlo e quindi il territorio verrebbe privato di ulteriori opportunità di crescita culturale perché le associazioni sindacali e i partiti politici, anche se non vi piace, stando nella nostra Costituzione. Allora vogliamo evitare momenti di carattere elettorale? Discutiamone, ma che i partiti facciano anche cultura, che i sindacati facciano cultura in questo Paese? È così. Anche perché, e su questo sono andata a fare una ricerca, perché ho detto ma forse io appartengo ad un partito da questo punto di vista strano, forse hanno ragione loro, ci dobbiamo riflettere e però a gennaio 2018 al Teatro di Milano Di Maio ha fatto un evento politico con tanto di merchandising. Sempre al Teatro di Milano è stata fatta una riunione di tutti i portavoci dei Cinque Stelle. Al Teatro Smeraldo sempre di Milano nell'ottobre 2009 è stato fatto uno degli eventi di nascita del Movimento Cinque Stelle. Sabato 13 dopo domani al Teatro Alfa di Torino verrà proclamato il candidato Presidente della Regione per le regionali del Piemonte del 2019 che è stato votato sulla piattaforma Rousseau. Lo stesso è successo a Genova, è successo a Napoli, è successo a Rovigo. Perché è successo? Non è corretto o non è corretto? Si può o non si può? Io credo che si possa perché le associazioni sindacali, politiche o partitiche pagano un affitto al teatro, svolgono un servizio culturale certo di parte, tant'è che non rientra nella programmazione artistica del teatro di Villa Lazzaroni, ma io credo che debbano poterlo fare. Sempre per invece una nota positiva, dato che ho citato la nostra Costituzione, invece sono contenta e di questo ringrazio il Presidente che nelle linee guida è stata accolta la proposta del Partito Democratico all'articolo 5, lettera D, abbiamo inserito questa dicitura. È escluso l'uso del teatro e di tutti gli spazi o aree oggetto dell'affidamento a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione professando o praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti. È una proposta del Partito Democratico che è stata subito accolta dalla Commissione ed inserita nelle linee guida. Vi dico la verità, voi lo sapete, noi avremmo voluto essere più espliciti, avremmo voluto che fosse citata la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione che vieda la riorganizzazione del Partito Fascista e di tutte quelle forze che ne fanno riferimento, soprattutto in questo momento politico in cui pericolosamente forse di estrema destra rialzano la testa in questa città. Non l'avete voluto fare perché probabilmente gli alleati di governo o qualcuno in questo territorio si sarebbe innervosito. comunque meglio di niente va bene così, sul principio ci siamo trovati e quindi questo già è un passo avanti rispetto a tanti altri bandi e quindi spero che questo sarà il primo bando del settimo municipio in cui è esplicito che coloro che hanno comportamenti razzisti o omofobi non possono utilizzare il teatro di Villa Lazzaroni oggi ma spero da questo momento in poi qualsiasi spazio di competenza del settimo municipio. Insomma io provo a concludere ma credo che dopo mesi di promesse oggi noi approviamo delle linee guida che come ho avuto modo di dire dal nostro punto di vista sono molto discutibili. Non esiste un piano finanziario, su questo spero che chi mi risponderà ci dia anche la buona novella che il piano finanziario si sta costruendo e che quindi a breve, sempre per citare la Presidente Lozzi ma tipo tra 15 giorni e un mese potremmo in Commissione visionare il piano finanziario perché io credo e ve lo chiedo ufficialmente che rispetto a questo argomento il lavoro di Commissione non si sia concluso con l'approvazione di queste linee guida ma che segua anche l'iter successivo, il piano economico finanziario, il bando e poi una volta avvenuta l'assegnazione. Non sappiamo in che tempi verrà pubblicato il bando e ripeto il vero rischio io credo è che se nella peggiore delle ipotesi assisteremo alla gestione di un teatro di quartiere da parte di una grande società che sarebbe l'unica a potersi permettere questi investimenti, nella migliore delle ipotesi io ho paura che questo bando andrà deserto perché le associazioni non potranno parteciparvi e vedremo ancora una volta sfumare la possibilità di restituire il teatro di Villa Lazzaroni al suo quartiere. Eppure non ci stavamo inventando nulla, in questa città esistono esempi virtuosi di teatro a gestione pubblica privata come il teatro di Tor Bella Monaca la cui programmazione di qualità è varia, aperta al territorio a prezzi accessibili e rappresenta veramente un riferimento culturale e sociale per un quartiere ben più difficile di quello dell'appio latino. Non mi sembra che oggi ci stiamo riuscendo, in ogni caso speriamo presto di venire non alla nuova inaugurazione del teatro di Villa Lazzaroni ma al primo spettacolo, primo di una lunga serie del teatro di Villa Lazzaroni e con l'occasione faccio in bocca al lupo a tutti noi e al nostro territorio. Sì, un attimo, prima ancora di darle la parola, consigliere Candiglione, volevo far presente che c'è una proposta di emendamento, è molto molto breve, quindi abbiamo fatto giusto qualche copia lì ma è veramente una cosa molto semplice, è presentato da Toti, Giuliano e Carlone, quindi se lo volete prendere intanto che c'è la discussione perché a fine discussione poi parleremo dell'emendamento. Allora, sì, Candigliota. Grazie Presidente. Allora, comincerei con... ci sono due coccodrilli, uno ratango-tango, due piccoli serpenti, gatto e topo, l'elefante, manca l'ulicorno. Abbiamo fatto mezz'ora di intervento che direi a dir poco sull'ovvietà, mezz'ora della mia vita sprecata. Ma è mezz'ora della mia vita sprecata perché... perché ci sono cose ovvie. Ma Presidente, Presidente di Commissione, ma cosa mi combina? Ma mi mette dentro le utenze? Ma come si permette a pensare che uno debba telefonare e deve far pagare le utenze? Ma io non lo so. Ma poi la SIAI si paga? Ma stiamo giocando? Cioè io veramente non ho parole. cioè ci sono cose per la normale amministrazione teatrale. Non stiamo parlando... cioè è vero che stiamo parlando di teatro ma non mi aspettavo uno spettacolo comico oggi. E invece purtroppo c'è stato. Io invece mi aspettavo altre cose in mezz'ora che secondo me era lì che erano importanti. era molto importante parlare di queste. Parlare del fatto che nelle scorse consigliature venivano date in affidamento diretto e questo non è mai stato detto fino a oggi. Allora invece noi ovviamente facciamo un bando perché per garantire la giusta equità a tutti di poter prendere lo spazio. Questo però non è stato detto. Oltretutto che non è stato detto, non è stato detto anche come sono stati spesi quei soldi prima. Abbiamo chiesto addirittura alla controlla e garanzia più volte, messo più volte a verbale. Voglio vedere come sono stati spesi quei soldi. Niente. Il nulla. Il nulla cosmico. Ora ce ne usciamo con una normale amministrazione di un teatro e un qualcosa di eccezionale. Veramente, ecco, adesso dovrei parlare un po' come Gasman, vero? Cioè nel senso perché veramente mi sento in uno spettacolo teatrale quasi pirandelliano. Io, vede, le cose essenziali che abbiamo cercato di portare non le abbiamo mai prese in considerazione, ovvero chi doveva prenderle perché la controlla e garanzia non è gestitata da noi, quindi di conseguenza se era interesse anche dell'opposizione capire come erano stati spesi quei soldi, si portava in controllo e garanzia. Allora, io rimando al mittente, mezz'ora veramente persa perché è solamente, si è trattato solamente di situazioni di ovvietà. Grazie. Andiamo avanti, ci sono degli interventi? E va bene, entriamo nel teatro e facciamolo, posso? Ah caspita, lei no come Gasman, proviamo come Sordi? Come Brignano. Come Brignano vada. Lo faccio un po' più comico perché sennò diventa pesante tutto. Allora, teatro di Villa Lazzaroni, già parto con una risata così almeno sciogliamo un po' il... No, invece Villa Lazzaroni è una realtà purtroppo del nostro territorio che io conosco da qualche anno e devo dire, io inizio subito facendo, perché ho preso degli appunti, collega Biondo, insomma non è che sono stato attento, e devo dire che il suo intervento è stato nei tempi, è stato veramente di un italiano affascinante e ha toccato una serie di punti che al di là del merito però comunque hanno avuto una sua logicità dall'inizio alla fine e quindi devo dire che al di là della mezz'ora persa, come dice il collega, comunque è stata una persona dove si è sciorinato, è un termine cinematografico, sciorinare una serie di elementi. Certo poi tra dirli e condividerli ci può essere certo un'ampia discussione. Un elemento però che lei non ha a favore, collega, ma non è colpa sua, è che lei fa parte di un partito che fino a ieri qui ovviamente ha gestito, governato e non ha mai aperto il teatro. Quindi se lei ha detto tutte cose giuste potrebbe dire ma che mi fate di a me che io vengo in aula che prima non avete fatto niente, giustamente? No, 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 ma dico che lei viene dopo, dice no, pur io. Non facciamo dialogo consigliere Giuliano, così consigliere... Non è dialogo, non sto parlando fra me e me. Allora consigliere Biondo non risponda. Sto parlando fra me e me, non sto interpellando la collega. E lo so però, ha ragione, ha ragione. Però, voglio dire, lei giustamente chi di dovere mi dice, mi dice ma io non c'ero prima, no? Ehi, collega, collega. Consigliere Toti, andiamo avanti. Dice ma io non c'ero prima, giustamente, che colpa c'è noio del PD di qualche anno fa? E io che colpa c'è noio del fascismo di 40 anni fa? Però mi dicono che sono fascista. Ma comunque, detto questo, perché è giusto che da lì io voglio entrare nel merito dell'intervento fatto e quindi ci sono delle cose che vanno comunque messe in evidenza. Allora, tra il dire e il fare, si dice sempre c'è di mezzo il mare. Allora, teoricamente si può fare tutto, praticamente è più difficile fare qualcosa. Come Fratelli d'Italia noi ci siamo trovati nel percorso dei vari lavori di commissione e quindi la commissione del Presidente Giannone e del Guido Roi che sta vicino che comunque abbiamo fatto un lavoro dove non è che è partito automaticamente l'approvazione. C'è stato un percorso che ci ha reso partecipi e se oggi, non avendo preso la mezz'ora devo essere un po' più veloce, e se oggi Fratelli d'Italia si è trovata vicino a questo modus operandi è solo perché tra quello che c'era prima e quello che ci può essere oggi noi proviamo ad avvicinarci a quello che ci può essere oggi. Cioè tra il nulla di prima e forse il grande punto interrogativo di oggi io preferisco andare nella direzione del grande punto interrogativo. Perché? Perché, cara consigliera che lei prima ha fatto l'intervento e ho apprezzato veramente, non lo dico con retrosia, perché purtroppo chi fa politica sul territorio si trova spesso e volentieri a dover analizzare quello che succede. E allora non si può sempre dire, no? Poi dopo è colpa di chi ci ha preceduto oppure la colpa è stata del Presidente, oppure la colpa è stata di chi ha gestito. Perché io ricordo che la Presidente che ha gestito nella scorsa consigliatura questo municipio non si è mai creata problemi nel fare degli affidamenti diretti. Per esempio, che ne so, il Casale di Torfiscale, non mi sembra che sia stato messo a bando. Oppure quello della Caffarella, oppure nel Via Botero dove c'era quella palazzina dove io sono andato a fare un'intervista e ho detto ma chi apre qui? Apre la Presidente, chiude il municipio e ci sono tutta una serie di cose. Quindi forse probabilmente è diverso il modus operandi di cui no? Poi non parliamo per il grande scandalo che io non conoscevo perché prima faccio parte del decimo, dell'ex decimo, ma oggi facciamo parte del settimo quella famosa novella, quella famosa storia che è durata 15 anni del Circo degli Artisti. Voglio dire, insomma, c'è stato tutto e di più. Ora però dici, nel fare questo bando siamo stati, cioè la commissione è stata molto dura, molto precisa, molto ingessando tutto questo tipo di discorso. quindi anche trovandoci così, la consigliera ha detto, anche trovandoci d'accordo però certo il vestito fatto intorno è molto pesante e questo è un ragionamento che si può ragionare. Fratelli Italia su questa cosa è stata anche critica e di o di più, è testimone, il Presidente di Commissione e anche qualche altro commissario che io ho detto come si fa a sapere quanto ammonterà l'importo che qualcuno dovrà sopportare nel dover partecipare a questo bando? Sia per la parte teatro, sia per la parte ristoro, perché non c'è da dimenticarsi la parte ristoro. Allora, se parliamo di cifre che stanno intorno ai 20.000 euro, dicono abbaggianata, può essere una cosa abbastanza sostenibile, ma se parliamo di 200.000 euro diventa un problema, diventa un problema e questo l'ho detto al Presidente della Commissione, vengo e ti rispondo, non mi fa domanda ma ti rispondo. Comunque io ho chiesto questo, è stato nominato un consulente, così mi diceva il Presidente, che dovrà comunque fare tutta una simulazione di prezzi reali, esatti, eccetera eccetera. Ora, se questo sarà una cosa che non sarà, come si dice, pesante, no? Non perché faccio... Permettere per favore il... Infatti, no, ma io vorrei che lei andasse avanti. Dopo può parlare, chiedere la parola e parla, vi trovi, tranquillo. No, siccome parla sopra mentre gli altri parlano, dopo può chiedere la parola e parlare. Se invece non vuole parlare, le chiederei per favore di non parlare sopra gli altri. No, non lo può fare. Andiamo avanti. Ah, mi fate pure boicottaggio. Non perché sia da parte della maggioranza o meno, perché se questa cifra monta ad una quota molto alta, è normale che nessuno parteceperà e quindi questo discorso verrà meno. E se verrà meno bisognerà comunque ridimensionare, riconvergere, rimodulare tutto il meccanismo. Però, se invece questo possa essere sostenibile, noi avremo la possibilità, e quindi ecco il modus che Fratelli Italia ha approvato, è quello di poter partire immediatamente, cercando di mettere subito, da subito, all'opera il teatro con un intervento esterno che comunque, essendoci, sarà ancora più culato e ancora più responsabile di chi ha preso oggi le cose senza aver pagato nulla. E neanche ce l'ha ridate, perché, dico sempre, per far capire, per mandar via il circo degli artisti, ci sono più di 15 anni. Poi dopo 15 anni te lo lasciano, ma tutto quello che hai messo in tasca intanto l'hai messo. Poi vi è maddico che non è stato così. Quindi, voglio dire, cambiamo modus. Poi quello che lei ha detto, consigliera, si può lavorare, si può diminuire, si può, come si dice, armonizzare, si può modificare, si può comunque rendere meno pesante. Però intanto lo schema è quello che, non è che noi dobbiamo far partecipare le associazioni che conosciamo. Io conosco delle associazioni, ma che non potranno partecipare, ma non mi crea un problema. Cioè, io non è che mi dobbiamo creare un problema per le associazioni culturali che conoscono e possono partecipare. Qui stiamo parlando di qualcosa, stiamo parlando di qualcosa che ha detto che conosce. Eh, consigliera Biondo, consigliera Biondo, non è un dibattito che lei piaccia o meno, non è un dibattito, lasci il tempo di parlare. Non è nominata. Ma infatti, consigliera Biondo, se vuole, potrà rispondere. L'ho venuta apposta perché mi fa piacere se risponde. Però dico, non dobbiamo crearci questo scrupolo, perché non possiamo fare le cose solo per alcune situazioni. Dobbiamo far sì che questa struttura venga messa in opera e che venga comunque gestita nel miglior modo possibile. Certo, noi non abbiamo la palla di vetro e non siamo maghi, perché se facciamo i maghi stavamo qui. Però possiamo comunque essere promotori di, e ripeto, quello che era e quello che sarà, a me comunque il dubbio mi dà sollievo. Perché se vado indietro a vedere quello che è stato, giustamente già so dare una decisione. Per non essere negativo completamente, per cercare di capire dove si può arrivare, si deve essere un po' propositivi per questo tipo di lavoro, per cercare di trovare una soluzione e per far iniziare un percorso. Poi è normale, se noi con i secco in mano non possiamo andare avanti, ma se non proviamo non sappiamo come poi correggere in corsa eventualmente questo tipo di situazione. Chiudo dicendo che simpatico è l'articolo 5 che appunto avete messo in opera, l'hanno accettato perché era giusto che fosse accettato. Non c'è scritto regimi comunisti, ma comunque lo possiamo anche immaginare, manca solo regimi comunisti. Però i sindacati e i partiti politici dovremmo trovare una escamotage per far sì che i partiti politici, i sindacati e le organizzazioni possano cominciare a poter utilizzare questa cosa. Questo sì, perché siccome non si fa il partito politico o il sindacato o l'organizzazione di categoria, non è che fa sempre politica. Fa anche la parte di chi difende settoriale e di chi rappresenta. Quindi avere uno spazio per poter rappresentare i propri iscritti, le proprie problematiche, la propria categoria, io su questa cosa ho una positività, ci potrebbe essere una possibilità. Certo che non vada a intaccare nella programmazione quella che è dovuta dal bando, quindi dalla parte teatrale, però nei spazi previsti anche dall'amministrazione, cioè dei giorni che rimangono all'amministrazione, ci potrebbe essere un qualcosa. Troviamo il modo di correggerla, questa cosa qui, troviamo il modo di correggerla, ma la parte sindacale, la parte di organizzazione settoriale di alcuni settori, di alcune particolari categorie, secondo me devono, possono avere degli spazi, se non dentro Villa Lazzaroni, ma anche in altre strutture, ovviamente che comunque possano dargli la possibilità di esprimere la loro situazione senza dover intaccare notevolmente la parte economica. Grazie, grazie per lo spettacolo, grazie per l'audizione. Grazie Presidente, allora, io vi dirò che non sarò lunghissimo, l'impegno del municipio perché quella struttura fosse a disposizione dei cittadini è di lungo corso. Il nostro lavoro risale a tante consigliature fa, parliamo del 2001 ed io, all'epoca, ero assessore alla cultura. Prima di noi c'era stata la gestione di Califano che, ricordo, lasciò in dote tanti debiti. Allora, organizzandoci con Ascanio Celestini ed altri artisti, provammo dapprima a tenere in vita la struttura, poi mi impegnai a trovare dei fondi per sistemarla. Ci fu un primo stralcio e poi un secondo, terminato di recente. Purtroppo, però, non è stato sufficiente per riportare il teatro in funzione. Al secolo, Susanna Fantino. Quando era assessore alla cultura, l'ex presidente del municipio, parliamo del 2001, ha iniziato a lavorare con Ascanio Celestini e altri artisti di varia fame, eccetera, eccetera, per aprire un teatro affidato in precedenza direttamente a Franco Califano che ha lasciato una marea di debiti. Parliamo degli anni 90 con Califano. Fantino, assessore cultura, correva l'anno 2001, è stato presidente fino al 2016. Essenzialmente sono 25 anni che questo teatro è chiuso. 25. Sono stati spesi i fondi pubblici e ha le stesse riferito in questa citazione, sono i fondi di cui tanto si è parlato, sono più o meno 870 mila euro per la prima tranche di lavori, la seconda il bandestro bloccato, che era quello sulla fornitura degli impianti audio-video e delle sedute. 870 mila euro e il teatro è chiuso, di fondi pubblici. E mi vengono un sacco di domande in mente, che non sto qua perché già l'abbiamo detta in commissione, perché già ce lo siamo raccontati. Quindi in realtà io su questo non è che voglio dire granché di altro. Comincio a dire però un'altra cosa, noi di solito agiamo tramite bando, che può sembrare una cosa assurda. Penso sempre a Califano, penso al circo degli artisti, adesso c'è il magistrato sul circo degli artisti. Sì, perché pare che abbiano anche sotterrato dell'amianto sotto le strutture archeologiche. C'è una cosa abbastanza strana. Noi agiamo tramite bando, abbiamo fatto delle linee guida che sono durate mesi in commissione con la partecipazione del territorio, oltre che nostra naturalmente, per cercare di dare un'alternativa al di fuori dell'affidamento diretto, classica, dei partiti, anche se hanno cambiato format, ma sempre quello era. Forme con cui sono stati affidati questi beni culturali, anzi queste strutture, questi impianti culturali in passato. Abbiamo lavorato così bene? No, io devo dire, anzi, prima c'è dire questa cosa, che mi sono piaciuti moltissimo tutti gli interventi che ho sentito finora. In particolare, quando si citava, non so, la bontà della collaborazione pubblico-privata, per esempio, al Teatro di Torbella Monaca, quella è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Tanto che ci è piaciuta in commissione questa cosa, della collaborazione pubblico-privata del Teatro di Torbella Monaca, che noi abbiamo preso gli obblighi per il concessionario dal bando dei teatri di cintura, entro cui è il Teatro di Torbella Monaca, e l'abbiamo messi nella delibera che stiamo votando oggi. Ed è un paradosso, perché da un lato ci dicono, eh ma il privato qua non ce la fa gestire, eccetera, eccetera. Poi, poi... Biondo, Biondo, deve stare in silenzio quando gli altri fanno gli interventi. Biondo, questo non è il regolamento che avete scritto e votato, e quindi non sono gli articoli nuovi, quindi se li hai scritti e votati, li rispetti. Biondo, stia, faccia parlare gli altri. Noi siamo abituati, noi siamo abituati, non è un problema, non è un problema, è un paradosso, dicevo. Come si fa a elogiare una forma di gestione pubblico-privata quando le stesse forme pubblico-privata e con gli stessi impegni che spettano al concessionario sono quelli che noi abbiamo inserito all'interno della delibera. Se ci pensa, Presidente, parliamo di teatro, questa è una cosa comica, anzi, mi scusi, Presidente, tragicomica, perché siamo più verso la tragedia che verso la commedia. È fantastico, è fantastico. Ma poi è stata tutta una serie di esempi, uno più divertente dell'altro, perché il concessionario poteva fare questo, 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 pagare le utenze, volturare, gestire i dipendenti, ma un privato qualsiasi che gestisce una struttura teatrale, ma non sono queste cose che deve fare, è la normale gestione, è la normale amministrazione. Ma di che parliamo? È tutto molto divertente, tutto moltissimo, moltissimo. Altra cosa ho sentito dire che i partiti politici, siccome non sono ammessi a fare propaganda politica all'interno del teatro di Villa Lazzaroni, che è un teatro pubblico, non come quell'altro esempio che ho sentito prima, il teatro di Villa Lazzaroni è pubblico, non è privato, punto uno. Punto due, ho sentito che stiamo andando contro la Costituzione, Presidente, e qui si apre il sipario della comicità assoluta, solo perché stiamo dicendo che per noi la cultura è laica e non vogliamo propaganda politica all'interno del nostro spazio culturale pubblico come non vogliamo proselitismo religioso, ad esempio. Che cosa vuol dire quindi? E io vi pongo un quesito e la butto là questa domanda. Questa è una cosa che già ho detto in commissione, poi non so chi c'era, chi non c'era, cioè non so se è stata colta perché oggi è stato ribadito lo stesso dubbio, quindi io penso sia un dubbio a beneficio della telecamera evidentemente, perché già c'è stata risposta su questa cosa con l'esempio che sto per fare adesso. Sapete che è illegale la propaganda politica, anzi scusate, illegittima, la propaganda politica all'interno delle scuole pubbliche. Ma mi viene un dubbio, Presidente, ma non è che tutto il sistema scolastico nazionale è anticostituzionale? Ce l'ho sto dubbio che mi balena, strana questa cosa, vero? Le università pubbliche è vietata attività politica e propaganda all'interno delle stesse, tranne quella interna, perché l'università ha una sua strutturazione con un solo senato accademico, eccetera, neanche lì possono entrare. E vi dirò un'altra cosa, che secondo me bisognerebbe agire su questo fronte anche con i centri anziani, sta per uscire un regolamento, chissà, non si sa mai. Mannaggia! È bellissimo, è tutto molto divertente, è tutto molto divertente, quindi sappia, Presidente, che vietare la propaganda politica all'interno di uno spazio culturale che ha valore sociale, puro, come è pura la cultura, no? È anticostituzionale? Sì, il microfono c'è, c'è il microfono, è il microfono. Adesso andiamo a dire a tutti i presidi, ai dirigenti scolastici, al ministro, ai digasteri, eccetera, che sono da quanto? Settant'anni? Sono da settant'anni anticostituzionali? Sessanta, cinquanta, venti, dieci, due mesi? Cioè, da quando è stata promulgata la Costituzione e loro sono anticostituzionali? Evidentemente. E sarà così, sarà così. Ora, detto questo, questa è una grande opportunità per il territorio, perché per la prima volta il teatro va a bando, intanto, si apre a tutte le possibili compagini e associative, ma non solo, c'è una forma di controllo, ferreo sì, perché noi siamo amministrazione pubblica del teatro, fermo restando, c'è ovviamente tutte le attività che sono normali per un privato quando gestisce un teatro, normalissime, e tutto questo per dire che anche in virtù del comitato di cui abbiamo tanto parlato all'interno della delibera, c'è discusso per tanto tempo, c'è anche una forma di indirizzo e di controllo pubblico non solo del municipio, ma anche dei comitati di quartiere, delle associazioni, degli istituti scolastici, che partecipano all'interno di questo comitato consultivo, non solo per questo scopo, ma anche per facilitare l'integrazione sociale e territoriale della nuova gestione del teatro, perché se chi arriva non ha contezza di quello che ha sul territorio, questo è uno strumento che lo facilita, oltre al lato puramente economico, la bigliettazione, i corsi, il punto ristoro, eccetera, eccetera, la concessione a durata di sei anni, come abbiamo specificato, è una delibera e chiudo, fermo restando che se dal piano di fattibilità, perché si farà un piano di fattibilità che è già in corso di esecuzione da parte dell'amministrazione e dei nostri uffici, uscirà il bando in base ai dati che poi usciranno, cioè da questo prospetto, e capiamo se questi sei anni per chi parteciperà bisognerà ampliarli di un pochino oppure no, semplicemente ci sarà un piano di ammortamento per ammortizzare per l'appunto le spese che occorrono al teatro di Villa Lazzaroni pubblico, dove già sono stati spesi 870 mila Euro pubblici, il teatro è chiuso, mai gestito da 20 anni, tranne provare con Ascaniocelestini e altre associazioni, questo e qua. Va bene, tutto molto chiaro, tutto molto candido, chiuso Presidente, non so se il tempo è terminato già, quindi vado in chiusura, dicendo che oltretutto se un privato entra con soldi propri per la gestione del teatro, è suo assoluto interesse ad esempio far sì che la programmazione funzioni, che abbia un ritorno, altrimenti non ha senso, questa è un'ulteriore garanzia per il municipio, oltre che per la programmazione e l'apertura culturale e teatrale per il territorio, è vista la partecipazione in commissione che abbiamo avuto in mesi di commissioni, con tutte le persone che hanno partecipato, questo è sì un argomento importante, è un argomento democratico, trasparente, pubblico, che affidiamo con bando, con la massima trasparenza, per la gestione cumulativa e per la gestione partecipata di un bene pubblico che il territorio non vede da 20 anni, 20 anni! Allora chi parla si dovrebbe solo vergognare! Chiuda consigliere! Altri interventi? Consigliere Toti! Se noi parliamo con i cittadini dell'Appio, soprattutto i cittadini dell'Appio, ma anche quelli ormai di Ciccinecittà che sono unificati con noi nel nuovo settimo municipio, una delle cose che penso più ci rimproverano è il discorso, oltre lo stato d'abbandono della villa, ma soprattutto ci rimproverano la vergogna, lo spreco di un tesoro come quello del teatro di Villa Lazzaroni, a me dispiace perché ricordo bei tempi, gli anni 78 quando il Comune di Roma, io da sempre sono nato in questo territorio e ho sempre abitato in questo territorio, nell'Appio, oggi settimo municipio, quando il Comune di Roma acquistò questo bene molto importante, anche costoso, non ce lo regalarono e quando si trasferì la sede da Via Tuscolana 1776, la trasferimmo nell'80 con il Presidente Peroni del Partito Repubblicano italiano, la trasferimmo a Villa Lazzaroni, per ricordare, che fa piacere. Ma questi sono, diciamo e voglio ricordare, cose belle con l'acquisto, il trasferimento di una sede che era molto impropria quella, e poi purtroppo i soldi buttati, la pessima gestione, veramente i cittadini lo vedono, il teatro l'hanno visto in questi anni e ci hanno chiesto sempre ma che fine ha fatto il teatro, perché non lo aprite. E purtroppo, io comunque, anche se da l'opposizione ero consigliere dell'ex nono municipio, dovevamo rispondere e rispondevo rispetto ai sbagli che furono fatti nel passato. Io dico che oggi penso che alcuni paletti ben precisi in questa delibera sono stati messi, non a caso, sia ero come Forza Italia che anche gli amici di Fratelli Italia, abbiamo firmato questa proposta di delibera. Ci abbiamo lavorato molti mesi in commissione e abbiamo lavorato non soltanto noi della commissione, ma abbiamo lavorato con le associazioni del territorio, con i comitati di quartiere, rappresente più volte il comitato Appio Abberone, il comitato Tuscolano Villa Fiorelli, altre associazioni che hanno dato, altri comitati anche, che hanno dato un loro contributo forte rispetto alla costruzione di questo percorso, che oggi è la delibera che noi andiamo ad approvare. Questo lavoro l'abbiamo fatto insieme, io voglio dire che tutti i consiglieri abbiamo collaborato e abbiamo dato delle indicazioni, dei consigli, abbiamo condiviso anche con la maggioranza alcune proposte, senz'altro proposte che hanno al centro lo sviluppo socioculturale del territorio, l'integrazione che è un momento anche esso importantissimo, l'apertura alla cittadinanza e all'associazione. Ecco, uno dei punti che mi hanno convinto a mettere la firma sotto questa delibera è proprio questo, i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni culturali, gli studenti, i docenti, il municipio e il direttore artistico, che diventano momenti di sviluppo, momenti di sostegno che lavorano a fianco del teatro per dare risposte il più possibile appunto importanti per un discorso, come ho detto, di sviluppo del discorso culturale del municipio, dell'integrazione e ho detto punti fermi perché per me il discorso della programmazione delle attività, l'obblighi dell'affidatario, i criteri premianti sono stati messi punto per punto e questo invece io penso che sia fondamentale, quello di puntualizzare punto per punto tutti gli obblighi, perché forse nel passato se avessimo fatto queste cose avremmo avuto dei risultati diversi, ecco perché prima ero state date alla buona, forse per il buonismo imperante che ha dato purtroppo non soltanto su questo, anche su altre cose, risultati disastrosi a livello nazionale, cittadino, municipale e allora questa volta abbiamo puntualizzato e abbiamo messo praticamente dei criteri ben precisi, prima ricordavamo Califano, ma non solo Califano, anche gli altri si sono comportati tutti male, in questi anni 3 o 4 hanno avuto la gestione del teatro, adesso io non ricordo con precisione, però è stata una gestione sempre e comunque fallimentare e perché poi non siamo riusciti? Perché non c'erano questi punti che io ho detto fondamentali, oltre al discorso della partecipazione intorno al teatro, che per me è fondamentale, il discorso delle cause di decadenza, le cause di decadenza, io non ricordo nel passato che erano così precise, perché se fossero state così precise, forse perché è possibile che uno, c'è l'affidamento, la cooperativa, la società vince e poi non si comporta correttamente, voglio dire, noi siamo vigili, come Forza Italia, senz'altro una vigilanza forte rispetto a questo, però ecco qui dice mancato avvio della programmazione artistica e teatrale, mancato rispetto della programmazione culturale, apertura al pubblico è un numero minimo, realizzazione del numero minimo è previsto per gli spettacchi al vivo, il pagamento almeno di tre rate, cioè puntualizzare con precisione tutte le possibilità e tutte le cause per la decadenza dell'affidatario. Perciò questo è un punto che io ho messo al centro per chiaramente un'espressione positiva rispetto alla delibera di oggi, ma anche l'altra, la trasparenza, io anche questa non ricordo, la trasparenza, un'area dedicata nella pagina municipale, il disciplinare dell'affidamento, i verbali del comitato consultivo, le tariffe applicate, la polizza, la graduatoria dell'associazione culturale richiedente, l'utilizzo del teatro. Queste cose a me hanno convinto. Poi, voglio dire, rispetto all'emendamento che io ho presentato, e lo dissi anche al Presidente della Commissione, che era presente anche il Presidente dei Servizi Sociali, dove nel punto praticamente, punto il articolo 6, prezzi e canoni di affitto, io dissi che quando si parla la valorizzazione proposte progettuali che prevede un sistema di prezzi che permette un'ampia partecipazione agli spettacoli e di attività integrative del territorio, favorendo, mediante gestioni tariffarie, la fruizione per i giovani, gli studenti e le capigorie sociali più fragili. Io feci presente che sarebbe stato utile inserire gli ultra 65 anni, come normalmente diciamo che per gli spettacoli e per le manifestazioni sempre è previsto questo, c'è un riconoscimento questo, però il Presidente della Commissione dei Servizi Sociali mi ha rassicurato dicendomi sì, però rientra nel discorso dei soggetti fragili. Io ho dei dubbi rispetto a questo, ecco perché io ho espresso l'emendamento, è chiaro che voglio dire che concordo con la delibera e per questo io l'ho firmata. Su questo magari ci potrebbe essere maggiore precisione, ecco soggetti, soggetti, ecco io non so se poi chi prenderà in mano il teatro avrà quella sensibilità particolare di inserire tra i soggetti fragili anche gli anziani. Però ecco se manca questa sensibilità, ecco a posto io ho voluto, ecco Presidente della Commissione dei Servizi Sociali, voglio dire, l'ho firmata, ho voluto essere più preciso e mi farebbe piacere che fosse più precisa l'indicazione nella delibera che praticamente dà un'indicazione come ho detto più precisa all'affidatario rispetto a anche gli un cassettari. Tempo scaduto. Ah finito. Allora volevo farvi notare che è finito anche il tempo previsto per la durata del Consiglio, quindi se siete d'accordo andiamo avanti. Siamo tutti d'accordo? C'è qualcuno contrario? Ok andiamo avanti. Fino a chiusura sono rimasti altri? Sì. Allora ci sono altri interventi? Sì consigliera Vitrotti. La ringrazio Presidente. Mi verrebbe da dire Galiotto fu il libro e chi lo scrisse. Galiotto fu questa delibera è chi la scrisse. Vedo che qui si va spediti d'amore e d'accordo, la maggioranza ovviamente nuovamente compatta, ma non abbiamo visto rotture in questi mesi e mi dispiace che persone di esperienza, con molta più esperienza di me, si debbano ritagliare degli spazi che sono propri della diatriba politica e hanno poco a che fare invece con i contenuti di questa delibera per poter accreditare un loro posizionamento, ormai noto anche a chi solo per caso si imbatte in questo Consiglio o in qualche commissione. Però diciamo io quello che vado raccogliendo di nuovo e di questo lo capisco perché la maggioranza giustamente porta avanti anche il programma e quindi seppure già abbiamo visto che abbiamo preso qualche stop in corso di questi mesi, io tanto entusiasmo inviterei un attimo a ridimensionarlo perché è lo stesso entusiasmo che ho visto per il bando delle palestre municipali. Siamo in proroga, io lo stesso entusiasmo l'ho visto per tante altre attività di carattere culturale come la programmazione e tutta la delibera che è stata decantata così tanto in quest'aula, in cui non abbiamo visto una grande esplosione di cultura nel settimo municipio, grandi eventi che la cittadinanza ricordi a nome di quella delibera. Poi mi fa piacere che ci sia qualcuno sempre attento a quello che succedeva negli anni precedenti, accollandoli anche a chi è qui oggi e se l'è già accollata la sua parte di responsabilità, però io invece di fare allusioni, lo dicevo la scorsa consigliatura quando noi eravamo in maggioranza, invitavo invece di fare allusioni in aula di andare alla Procura della Repubblica, perché anche basta di far trasformare quest'aula in un tribunale, perché poi scopriamo, io ringrazio il consigliere Giuliano perché è sempre molto informato e abbiamo scoperto che anche in questo momento c'è un consulente che si sta occupando di tutta questa pratica e di valutazione dei costi, molto utile, lei è sempre utile, però siamo tutti utili e nessuno è indispensabile, quindi si faccia... Andiamo, facciamo fare questo intervento? Detto ciò, andrei avanti perché poi basterebbe scrollare, come si dice oggi in gergo digitale, le delibere, le determine dirigenziali che ci sono sul nostro sito e scopriremo degli affidamenti diretti anche oggi, le proroghe ci sono state anche oggi anche per gli AEC ad esempio, nelle more dell'espletamento di un bando, cioè esattamente tutti quei punti che sono stati messi negli anni, sottoposti ad una lente di osservazione, oggi scopriamo che invece si attuano ancora e scopre qualcuno che anche questo codice degli appalti però scoccia, tant'è che a Roma è tutto fermo, per esempio, quindi quando parliamo di quel bando che stravolgerà le sorti di questo municipio, io vi inviterei a usare la calma perché altrimenti ci ritroviamo allo stesso entusiasmo che abbiamo, io perlomeno ho vissuto qualche mese fa e quindi oltre a vergognarci, che diciamo io lo ringrazio sempre anche il consigliere Guido perché veramente ormai è diventato un piacere ascoltarlo, però quando ci dice che ci dobbiamo vergognare invece la consigliera Biondo non fa altro che fare delle osservazioni precise e puntuali sul merito di questa delibera, su cui non vorrò entrare perché poi sarà lei magari a voler replicare su alcune cose che sono state segnalate, io invece gradirei che anche l'opposizione a volte fosse ascoltata e le preoccupazioni che ci sono, che sono legittime, non si riducessero ogni volta a quello che ha fatto prima la Fantino, perché voi non c'eravate, io per poco tempo e vi assicuro che quello che abbiamo potuto fare, prendendoci anche delle denunce in merito a qualche commissione print che abbiamo fatto per vedere qualche cosa, qualche denuncia ci siamo presi, con coraggio abbiamo cercato di tirare fuori qualche cosa, quindi invece di schernirci ogni volta, invece di insultarci ogni volta, sarebbe buona cosa ad operare, umiltà, in quest'aula non c'è mai, c'è solo spocchia e poi vediamo però quali sono gli esiti, se gli esiti e io non me lo auguro per questo territorio, non me lo auguravo prima e non me lo auguro adesso, neanche quando non c'ero, neanche quando c'era Califano che io e lei probabilmente ero, non so dove stavamo, forse ognuno dentro casa a giocare con le bambole, non lo so, per quello che è successo, lei forse con le macchinine, detto questo io immagino che per tutti noi è un dispiacere aver visto. No, no, smettiamolo, lo dico a loro, di interrompere. Ma non mi stai interrompendo, interrompe più lei a volte, non mi scusi. Sì, infatti è una cosa molto simpatica, però andiamo avanti, sono le giorni 17.30, quindi vado avanti, evitiamo questo dibattito, vado avanti Vitrotti, evitando il dibattito se ci riesce, se lei si chiude la bocca, grazie. Detto ciò, io gradirei che insieme... Chiudo la bocca, mi ha detto. Sì, sì, perché mi parla sopra e sto cercando di fare un discorso, se è possibile chiudere, e chiudo, altrimenti siamo qui fino a che non finisco. Come lei dice, zitta agli altri, anche noi potremmo... Io sono qui perché è il mio ruolo, dire zitta a chi parla sopra lei. Lei mi sta interrompendo, lei mi sta interrompendo. Io interrotto quelli che interrompevano lei, vado avanti Vitrotti, per favore. Per favore cercate di non fare dialogo e dibattito. Vado avanti consigliera Vitrotti. Io penso che quella discussione, anche costruttiva, che c'è stata nella Commissione, abbia portato a dei nodi. Poi, se oggi voi mostrate tutta questa certezza, ci affidiamo anche a questo, a questa vostra lungimiranza. Peccato che i precedenti non vi danno propriamente ragione. Quindi io, oltre a sottolineare e a lasciarvi le osservazioni che sono state fatte, anche con la possibilità di migliorarle e di migliorarla la proposta, intanto spero che verrà accolta la proposta della consigliera Biondo, cioè di continuare a lavorare nella Commissione proposta per capire come andrà avanti il lavoro e la discussione, anche perché non si può affermare all'elaborazione di linee guida, che saranno fondamentali, ma poi è ovvio che c'è un passaggio successivo, perché poi diventerà fondamentale in un secondo momento cercare di capire veramente cosa e come abbiamo interpretato il teatro di Villa Lazzaroni, che era esattamente, e lo dico senza nessun timore, quello che nella scorsa consigliatura cercavamo di far capire a qualcuno che purtroppo era più testardo di noi e quindi quella volontà di dare solo un taglio prettamente, strettamente di quartiere probabilmente non avrebbe aiutato al rilancio di quel teatro che tutta la cittadinanza immagina come il teatro non solo del quartiere, ma il teatro che può far rivivere una villa che è in difficoltà oggettive e non perché oggi c'è una villa, ma perché c'è un degrado purtroppo consolidato, perché gli atti di vandalismo vanno avanti, perché quando non c'è un controllo e quando non c'è un movimento nelle nostre piazze e nelle nostre ville si crea anche del disagio e anche del degrado, per tutte queste ragioni la cittadinanza vuole quel polo culturale attivo, non lo vuole solo la maggioranza di questo municipio, lo vuole anche l'opposizione in altre forme e in altri modi, come vedremo purtroppo anche in sede di votazione. Grazie. Posso solo replicare, Presidente, per fatto personale, 30 secondi? Fatto personale alla fine della discussione. Grazie, Presidente. Andiamo avanti. Ci sono interventi? Io non l'ho replicato il messo, eh? Bravo. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi io lascio la parola al relatore per l'intervento, anzi no, c'è prima l'illustrazione dell'emendamento, prima della fine della discussione. Sì, pensavo già di averlo illustrato, soltanto quello che io praticamente ci tenevo a dire che qui nel punto 6, quando si parla di prezzi e canoni di affitto, c'è l'indicazione che la valorizzazione delle proposte progettuali che prevedono un sistema dei prezzi che permette un'abbia partecipazione agli spettacoli e attività integrative del teatro, favorendone mediante agevolazioni tariffarie la fruizione per i giovani, gli studenti e le categorie sociali più fragili, da una interpretazione che per me potrebbe anche essere allargata agli anziani, però agli ultra 65 anni che già per spettacoli, manifestazione hanno nella maggior parte dei teatri, la maggior parte dico anche allo stadio, ma in tantissimi luoghi di aggregazione una scontistica particolare riservata, un'interpretazione che potrebbe essere non giusta da parte, così come noi la indichiamo nella delibera, un'interpretazione non giusta da parte dell'affidatario che potrebbe ritenere non socialmente più fragili gli ultra 65 anni. Allora io avrei voluto mettere, aggiungere, infatti un emendamento aggiuntivo che si propone di aggiungere al punto A dell'articolo 6 dell'allegato A, dopo le parole, le categorie sociali più fragili, gli ultra 65 anni, in modo che siamo più precisi nelle interpretazioni anche degli anziani ultra 65 anni che potrebbero non essere ben identificati da parte dell'affidatario e perciò non riconoscendo a loro agevolazioni tarifarie, ecco appunto gli ultra 65 anni. Ecco perché ho portato questo emendamento aggiuntivo e chiedo appunto ai consiglieri di approvarlo proprio perché è un discorso di interpretazione più esatta delle indicazioni che noi diamo rispetto alle categorie più in difficoltà. Ricordiamoci che più del 30% della popolazione del nostro municipio è anziana e quello che è il problema più importante purtroppo e più difficile anche da superare è quello della solitudine, perciò ricordiamo poi che il teatro è al centro di quella che è l'attività dei centri anziani perché ormai tutti i centri anziani del nostro territorio, ex non ex decima, hanno un loro teatro e fanno attività teatrali, perciò ecco dare anche una indicazione positiva in questo senso agli ultra 65 anni mi sembra un fatto dovuto. Grazie mille. No sto guardando il regolamento essendo divenuto già eseguibile. Ok sì, può intervenire per non più di 5 minuti un solo firmatario per ciascun gruppo per illustrarlo e poi c'è dichiarazione di voto per non più di 3 minuti a gruppo, stavo controllando solamente essendo divenuto subito esecutivo il nuovo regolamento, mi volevo accertare di fare le cose giuste tutto qui. Ok, può intervenire un consigliere per ogni gruppo consigliare solamente e poi ci può essere la dichiarazione di voto, tutto qui, volevo essere sicura non ci fossero variazioni, è rimasto tale e quale. Benissimo, ci sono interventi dei gruppi consigliari? Sì, Giuliano? I gruppi consigliari Presidente, sì. I firmatari tra l'altro. I firmatari. Io penso che non ho mai visto il collega Toti, come si dice, esporre un passaggio con questa enfasi, con questa convinzione e probabilmente ha ragione, ha ragione nel prevedere questo piccolo passaggio, io so già le risposte che verranno, però sono quelle sfumature che fanno la differenza. Quindi al di là che penso che sia già compreso, contemplato, fragili, non fragili, eccetera, io penso che siccome non facciamo amministrazione, cari colleghi, non facciamo amministrazione, facciamo politica, quindi al di là di quelli che saranno i numeri, la politica cosa fa? Prende posizione. Quindi al di là dei numeri, al di là delle situazioni, noi dobbiamo dire se siamo d'accordo nel porre questa categoria dentro una facilitazione. poi saranno centomila, uno, cinque che ci vanno, non lo sappiamo, ma politicamente dobbiamo porre, dobbiamo metterci in una posizione, perché noi non facciamo i farmacisti, non sappiamo quello che può essere l'andamento, ma possiamo dire però che a noi fa piacere che i fragili, quelli che hanno un'ise, non è che gli chiediamo le ise quando stanno lì al bietto, quanto c'ha dei ise? Mille? Vabbè, entra. Quanto c'ha dei ise? Diecimila? No, non ti faccio entrare. È un discorso politico, quindi i colleghi di maggioranza, e lo dico anche alla coppia femminile del Partito Democratico, ma lo dico anche al singolo del misto, posizione politica. Quindi non l'abbiamo fatto, non perché, come si dice, ci mancava qualcosa e non potevano andare a dormire stasera, perché poi giustamente questo lavoro possa avere, non perché non ci sia pensato, ma nelle sfumature, possa avere quel risultato ancora più preciso che tocca e riguarda anche quel tipo di persone che sono la famosissima terza età, perché non ci siamo dimenticati ovviamente dell'aspetto giovanile, è stato già introdotto, probabilmente per quelli che appunto stanno nella terza età e che cominciano ad avere la loro importanza, perché se solo pensiamo al welfare lo reggono loro, quindi per le famiglie, i famosi nonni hanno fatto pure la giornata di nonni, beato a chi ce l'ha, quindi penso che sia una forma di rispetto che non può essere calcolata numericamente, economicamente e matematicamente, ce la dobbiamo sentire, cioè deve essere una posizione politica, basta, non ci sono motivazioni altre, se noi ci sentiamo di essere da quella parte, di occupare quel piccolo spazio, dobbiamo dargli sostegno. Poi il Presidente della Commissione Sociale ha fatto già il suo lavoro intervenendo e mettendo all'interno i fragili eccetera, però non c'è scritto, non è proprio preciso, allora l'abbiamo messo per essere d'aiuto, perché così nessuno potrà dire un domani oppure fargliela spiegare, non è facile, il Presidente della Commissione Sociale quando va a parlare con i centraziani torna e esce al mal di testa, non è facile spiegare qualunque cosa, perché loro ormai vivono la terza età, vivono il mondo più vicino a loro, è normale, è naturale, allora non puoi dire sì ma tu sei fragile, poi quando torni a casa io ti accompagno, non stai da solo, stai con me, il Municipio, l'Istituzione, sei compreso, è finita la storia. Per l'intervento sono 5 minuti, per la dichiarazione di voto sono 3 minuti. C'è l'ho l'altro tempo? Sta per scadere. Eh dai, è un netto bene. Coppia, voi siete coppia di fatto, vi vedo. Allora, e quindi, questo è, mi sentivo di dirlo in questo modo, anche se non è apprezzato soprattutto dalla parte femminile, mi sentivo di dirlo in questo modo perché solo così si poteva spiegare. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto, ce ne sono o no? Allora votiamo. Intanto cambiamo uno scrutatore, sì perché Gugliotta non c'è più, quindi Giuliano. Scrutatore. Presidente? Sì. Non sono finiti gli interventi, credo. Ah, gli interventi sulle vendamenti. Ricordatevi un attimo il... Tieni, è tutto gelo, no? 69, non resta. E' chiaro che ci sta vendendo. Possono intervenire per 5 minuti un solo firmatario di ciascun emendamento e non più di un consigliere per ogni gruppo consigliare. Sì, se volete intervenire, sì. Ma uno per ogni? Uno. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, su questo emendamento c'è stato modo di discuterne più volte in sede di Commissione Cultura e diciamo che premesso che tutto ciò segue una norma generale che viene utilizzata da sempre, diciamo, nelle strutture teatrali rispetto alle tariffe agevolate o ad eventuali riduzioni in generale. Quindi potremmo dire che qua si seguono una norma o più che altro una consuetudine. Per quanto riguarda la nostra posizione politica è chiara ed è chiaramente esplicitata all'interno del regolamento. Allora, la domanda è se gli anziani sono categorie fragili a prescindere oppure no. Perché solo gli ultra 65 anni e i 64 anni e i 63 anni? Questo è per dire che il target non può e non deve essere l'età di una persona. Ma, come abbiamo esplicitato nel regolamento, una situazione di fragilità sociale che prescinde dall'età della persona. E gli anziani benestanti? Quindi quelli che hanno economicamente la possibilità, a differenza di altri, di fruire liberamente quante volte preferiscono dei teatri, dei cinema e di tutte le attività culturali. Quindi la distinzione che noi abbiamo fatto, ringrazio il consigliere che mi ha preceduto prima, specificando che questa cosa è stata affrontata con attenzione in Commissione, con un ragionamento prospettico proprio dal lato sociale. Ringrazio con l'occasione anche il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Cultura che hanno dato la loro attenzione a questa parte, a questo aspetto. E quindi c'è stata la possibilità di esplicitarlo meglio. Quindi, quello che noi vogliamo dire in questo momento è non categorizzare le persone per l'età, ma proprio per la condizione che hanno. E' per provvedere, diciamo, a delle agevolazioni sulle tariffe proprio per la condizione sociale in cui si trovano. Per me, una tariffa agevolata deve andare a una persona che economicamente è anche fragile, socialmente è anche fragile. Penso, per esempio, alle persone che percepiranno il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza. Cioè, il target che noi abbiamo cercato di individuare e che dovrà essere esplicitato, ovviamente, all'interno del bando, con un'attenzione particolare, è proprio questo. Le categorie socialmente più fragili. Noi pensiamo che con questa formula riusciamo ad inquadrare in maniera più ampia una più vasta categoria di persone. Non solo quelle che superano i 65 anni. E quindi, diciamo, questa è la motivazione della scelta nostra, diciamo, di andare in questa direzione all'interno del regolamento. Quindi, diciamo, crediamo che quella richiesta che viene fatta, che viene posta, con ottime intenzioni, sono certo, in realtà noi la vediamo in maniera leggermente diversa, in una maniera un po' più inclusiva, non solo per, dicevo, per il target dell'età, ma proprio per la condizione sociale, per la condizione di fragilità sociale. Questo è il nostro pensiero su questa cosa. Poi ci esprimeremo nel momento in cui ci verrà data la possibilità di votare. Grazie. Ci sono altri interventi? No, andiamo allora in dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto? Approfitto di quest'altri secondi. Nel dire che ovviamente Patelli Italia è ovviamente d'accordo, cerco di chiedere ovviamente all'Aula di non appoggiarsi completamente al percorso mentale che è stato fatto e che adesso ho sentito, considerandolo giusto e positivo. Se vogliamo comunque mettere nella condizione una terza generazione, nella possibilità di fronte a questo aspetto, di poter essere considerati, lo possiamo fare poi con, gli uffici lo faranno con delle limitazioni, non è che possiamo permettere a uno che ha una pensione di 10.000 euro al mese di poter entrare ridotto, no, ma si mettono dopo le limitazioni. Voi siete i primi che lo dite sempre, voi siete i primi che dite dopo, gli uffici entreranno nel merito. Qui noi lo diciamo solo come contenitore, cioè all'interno di quel contenitore ci possono essere anche quelli che, che poi avranno, che potranno avere i requisiti, possiamo aggiungere così, che saranno quelli che verranno disciplinati. Però siamo un po' più precisi, non è perché non l'avete detto, ma siamo un po' più precisi. E ripeto, non facciamo i farmacisti, facciamo politica. Quindi se poi non è precisa la cosa, vogliamo aggiungere requisiti collegati, lo facciamo, lo mettiamo, però diamo un'indicazione politica. Per quanto riguarda questo aspetto, sicuramente affrontato, ma migliormente definito. Questo è, però lo fa la politica, non lo fa l'amministrazione. L'amministrazione poi gli diciamo agli uffici di dire chi deve entrare, chi come, quando e perché. Quali requisiti deve avere. Quindi siamo favorevoli, ma speriamo che anche l'Aula, con uno slancio, un piccolo slancio, possa fare un effetto positivo. Senz'altro sono d'accordo, sono stato il primo firmatario di questo emendamento, perciò come non essere non d'accordo, ma d'accordissimo. Io speravo che ci fosse ecco un maggiore disponibilità rispetto a questo, perché voglio dire, se noi mettiamo al centro l'ISE, poi il discorso l'ISE lo dobbiamo fare per tutti, perché poi c'è l'ISE familiare che poi prende poi tutti. Allora poi diventa un discorso difficile quello, perché non è che poi dobbiamo stare attenti all'ISE rispetto agli anziani e non siamo attenti all'ISE rispetto agli altri. Allora voglio dire, è un discorso che io ho fatto prima, quella della solitudine, che è elemento importante, fondamentale per la vita della terza età. Perciò ecco, più che l'ISE io metterei al centro la solitudine. Perciò ecco, aprire il più possibile alla terza età tutto quello che è cultura, che è spettacolo, come si apre? Apre giustamente per i giovani. Perciò il discorso che è per i giovani, che possono essere anche ricchissimi i giovani, non è che chiediamo l'ISE familiare ai giovani, ma perché lo dovremmo chiedere? Perché è giusto che i giovani, specialmente in età scolastica, partecipino senza mostrare l'ISE. Voglio dire, però è pure giusto che anziani, io ho definito i 65 anni, perché io penso sono quelli che hanno più bisogno, perché sennò potremmo pure indicare i 55 anni, perché per entrare nei centri anziani c'è bisogno di avere 55 anni di età. Ma abbiamo voluto invece indicare il 65esimo anno di età come crinale vero rispetto all'anzianità dell'individuo. Perciò, ecco, ho detto, se dobbiamo essere seri, il discorso di ISE è per tutti, non è per uno né per l'altro, il discorso deve essere fatto per tutti e voglio dire, invece, in questo caso, io penso, per gli anziani, è elemento caratterizzante la solitudine. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni? Allora andiamo avanti con... Ah, sì, principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, si è parlato anche di forma di rispetto nei confronti delle persone anziane. Io credo che qualsiasi consigliere in quest'Aula, a prescindere che sia dell'opposizione o della maggioranza, potrà testimoniare tranquillamente che da parte di questa maggioranza, e mi permetto di dire da parte mia, ma semplicemente per il ruolo che rivesto, cioè quello di Presidente della Commissione Politiche Sociali, non sia mancata assolutamente l'attenzione alla categoria delle persone anziane, tanto che più volte sono state convocate in commissione e più volte mi sono reso disponibile a dialogare tranquillamente, cercando di portare poi dei risultati. Non sempre ci siamo riusciti, continueremo ad impegnarci in questo senso, sul tema in particolare vorrei ribadire un concetto. Allora, all'interno dell'articolo citato, della lettera A dell'articolo 6, c'è scritto, si parla di categorie sociali più fragili, cioè io stiamo dicendo la stessa cosa, stiamo dicendo la stessa cosa, stiamo dicendo la stessa cosa, guardandola da due prospettive differenti. Io dico, bisogna andare incontro alle categorie sociali più fragili, a prescindere dall'età, ok? Dobbiamo andare incontro a un target il più ampio possibile che si trovi in difficoltà. E le persone anziane ovviamente, ovviamente rientrano in questo target, purché ci siano delle condizioni. L'esempio che ho fatto prima, chi economicamente è benestante e quindi diciamo non ha difficoltà, non può rientrare in una categoria sociale fragile, no? Mi sembra ovvio, ok? E quindi, se esattamente al contrario, cioè si tratta di persone che anche economicamente hanno delle difficoltà, rientrano altresì in questa categoria. Quindi assolutamente noi non facciamo esclusione, ma al contrario inclusione la più ampia possibile. e vi anticipo che abbiamo intenzione, ma non ho nessuna difficoltà a comunicarlo, perché, insomma, io sono trasparente, quindi non... Tempo scaduto. Concludo veramente pochi secondi, la ringrazio. di sviluppare anche in futuro delle, diciamo, delle, come dire, delle forme anche di avvicinamento da parte delle persone anziane, perché di queste persone stiamo parlando, alla cultura, al teatro, valutando anche altre azioni, per esempio, diciamo, all'interno dei centri sociali anziani. Cioè, per noi gli anziani sono una risorsa e assolutamente non c'è nessuna voglia da parte nostra di impuntarsi su una cosa, ma vi sto spiegando che queste persone già sono incluse, sono già incluse in questo regolamento, perché se rispettano certe condizioni, ma non per l'età, in generale, rientrano fra le categorie sociali più fragili. Quindi, ho chiuso, voteremo contrario, semplicemente perché queste persone già rientrano a quelle condizioni nelle categorie sociali più fragili. Non vogliamo limitare tutto solo all'età di una persona. Grazie. Posso chiedere, quindi, Presidente, proprio per un ultimo passaggino per l'emendamento, in tal senso, se possiamo chiedere circa i minuti di sospensione, se loro sono d'accordo, proprio per un chiarimento, perché poi sembra che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, ma basterebbe pochissimo, secondo me. se ne sentite la necessità, io per me non c'è problema. Siamo in dichiarazione di voto, non si può più fare, mi dispiace. Non si può più fare. Mi dicono di no. La discussione è già avvenuta, gli emendamenti sono già stati discussi, voglio dire, forse andava fatto prima. Allora, andiamo avanti. Se tutti hanno parlato e non ci sono più dichiarazioni di voto, possiamo procedere alla votazione. Allora, per questo emendamento, favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Viene purtroppo respinto, con 13 contrari, 2 favorevoli e 4 astenuti. Ricordo che siamo in fine di discussione della delibera, che non è stata emendata, posso lasciare prima della votazione solamente parola al relatore o un assessore che non c'è, quindi al relatore per 10 minuti se ne ha bisogno e poi andiamo in votazione anche, in dichiarazione di voto anche della delibera. Sì, Presidente, c'era sempre l'intervento per fatto personale, non so quando vada, se prima o dopo? Alla fine della discussione facciamo dopo l'intervento dopo l'intervento di chiusura. Grazie, Presidente. Chiudo questa discussione approfittando insomma di questo momento per chiarire alcune cose che sono state dette e che non mi risultano essere proprio coincidenti con quello che è scritto nella proposta di deliberazione. Cioè si sta facendo passare questo atto come una forma, come dire, come una possibilità di affidare il teatro a non si sa chi all'avventura con oneri e obblighi come macigni sul gruppone del povero sventurato che parteciperà. Per essere più precisi il teatro è aperto. Cosa significa è aperto? Vuol dire che ha tutte le certificazioni compresa quella dei vigili del fuoco per poter essere utilizzato come spazio senza le sedute. Cioè non ci si può fare teatro ancora, non ci si può rappresentare delle piste atrali oppure non si può fare spettacoli ma il teatro in quanto edificio vogliamo chiamarlo spazioventi teatro aperto come spazioventi è già aperto voglio dire se no il 27 marzo scorso come avremmo potuto aprirlo e farci quella mostra come abbiamo fatto che poi mi vogliate dire che ancora non è fruito al 100% forse è fruito in minimissima parte scusate il termine e questo sicuramente può essere e quindi ci dobbiamo impegnare per mettere per migliorare questo aspetto lo faremo però non mi si può dire che è ancora aperto e non mi si può dire che sono mesi e mesi di promesse questi sono mesi e mesi di lavoro preparatorio di un lavoro necessario non so se sia stato fatto prima forse no perché altrimenti avremmo trovato le proposte di delibera io non ne ho avuto contezza durante i lavori di commissione quindi il teatro è aperto e i mesi necessari sono necessari perché è una grossa responsabilità che ci stiamo prendendo dopo ciò che abbiamo sentito dai consiglieri che mi hanno preceduto che stavano all'ex nonno e che conoscono bene la faccenda degli affidamenti fatti in passato e delle modalità con cui è stato gestito il teatro è chi ha generato oneri per la cittadinanza perché dobbiamo ricordarci che un teatro un edificio pubblico è innanzitutto un bene della collettività tutta non è delle associazioni è della comunità e noi abbiamo il diritto e il dovere soprattutto il dovere di garantire la collettività e garantire il bene che rimanga nella disponibilità della collettività è che produca un beneficio per tutta la collettività quello che ho detto più volte in commissione che noi non stiamo facendo non abbiamo pensato questo bando per capire a quale associazione darlo noi abbiamo cercato di garantire la possibilità che potesse essere fruito al meglio dai cittadini come dire commisurando gli oneri agli onori commisurando l'onere di mantenerlo in gestione e quindi di dover farci ancora degli interventi ahimè perché se fossero stati fatti prima oggi non avremmo questo problema non ne sono stati fatti non è un problema abbiamo deciso di farli di gestire noi l'ultimo pezzo di questo processo benissimo ma dobbiamo anche garantire che poi questo il teatro possa portare benefici alla cittadinanza intera non ad una parte della cittadinanza tra questa parte di cittadinanza intera ci sono anche le associazioni infatti abbiamo previsto su richiesta dei comitati di quartiere delle associazioni piccoline cioè datici uno spazio bettetici in condizioni di poter utilizzare questo teatro per fare le nostre rappresentazioni magari una o due volte l'anno così benissimo abbiamo incluso tra i 60 giorni la possibilità che queste associazioni possano chiedere al municipio di usare il teatro gratuitamente gratuitamente d'altronde abbiamo anche pensato che chi dovesse prendere in gestione avesse anche garantita una sostenibilità economica finanziaria per questo poi abbiamo previsto che ci fosse uno sbigliettamento ci fosse chiaramente a prezzi calmerati che ci fosse la possibilità di fittare le stanze per attività laboratoriali per rendere sostenibile il piano finanziario ora riguardo il costo del completamento se lo avessi saputo lo avrei detto in commissione non avevo alcuna difficoltà ma evidentemente non è stato non è così semplice perché non si tratta di un'attività commerciale di cui uno possa stimare facilmente gli ingressi e le uscite le entrate previste e le uscite previste perché sono attività specifiche culturali di cui ho chiesto in comune nell'amministrazione non vi sono esperti del settore almeno così mi è stato detto per cui è stato necessario e questo l'ho detto in una delle ultime commissioni che abbiamo fatto quando ho presentato l'ultima versione della delibera e quindi quando ho saputo ciò che l'amministrazione si sta attrezzando per fare una ricognizione per capire come poter acquisire questa professionalità adesso io non so le modalità perché è un fatto squisitamento amministrativo ma mi è stato detto che per poter fare la stima e quindi anche il piano economico finanziario c'è bisogno di un esperto che si sta cercando ok per cui una volta che avremo questa stima vedremo il tema è che il piano economico finanziario deve essere fatto in modo come dire abbastanza accurato perché poi dopo dovrà essere determinata anche la durata della concessione così come dice il codice degli appalti e non ce lo inventiamo noi quindi vedremo appena avremo informazioni quindi sarà come dire ne riparleremo i permessi gli unici permessi che l'unico permesso che rimane da chiedere è il permesso ma l'ho già ripetuto però come dire ripetita Juvent il reggio decreto 773 del 1931 prevede una licenza di agibilità fissa questa licenza viene data sulla base di un progetto delle scene delle quinte delle sedute e quindi la determinazione delle vie di fuga eccetera ora io mi chiedo come possiamo noi dare chiedere anche volessimo farlo una licenza di agilità fissa quindi che preveda questo progetto se ancora non abbiamo le sedute primo come le vogliamo mettere queste sedute non sappiamo come sono fisse incastro non lo sappiamo e quindi che cosa chiediamo quindi non lo possiamo chiedere ok quindi sono passati abbiamo iniziato le commissioni a febbraio è vero sono passati un po' di mesi non certo anni ma questi mesi ci hanno permesso di costruire di articolare una delibera da zero abbastanza si strutturata complessa perché abbiamo visto un po' diciamo sentendo anche le esperienze di chi è venuto a partecipare insomma delle associazioni che hanno partecipato dei consiglieri che hanno ricordato ripeto le esperienze del passato e abbiamo voluto anche diciamo prendere quelle che sono le esperienze dei teatri di cintura il teatro del lito di ostia e abbiamo voluto costruire in varie commissioni i vari aspetti che sono presenti in delibera proprio perché sappiamo che è una responsabilità che la cittadinanza ci chiede c'è una responsabilità abbastanza grossa e quindi abbiamo voluto che queste linee guida fossero abbastanza precise che garantissero i cittadini ecco perché gli obblighi che sono obblighi di gestione abbiamo voluto mettere anche una fideiussione perché non vorremmo trovarci fra due anni con un teatro che non funziona e che pieno di debiti perché i cittadini devono essere tutelati il bene è di tutti e deve essere tutelato ora si è parlato di speculazioni io non ho capito a cosa si riferisse questo termine non so quali speculazioni abbiamo fatto quindi il tutto per dire che è stato un lavoro molto articolato è stato un lavoro che ha richiesto mesi di lavoro a parte che per un periodo siamo stati impegnati la Commissione come ben sanno i commissari della Commissione Scuola sono stati impegnati a preparare la delibera di programmazione sportiva quindi io direi che il lavoro è stato ben fatto e ci auguriamo che queste linee guida possano facilitare l'apertura e sicuramente abbiamo voluto declinare tutti gli aspetti per evitare che qualcosa potesse essere tralasciato con questo chiudo dicendo che meglio non avremmo potuto fare ringrazio i cittadini e le associazioni che hanno partecipato attivamente che sicuramente potranno poter fruire di questo spazio al più presto possibile grazie le lascio la parola consigliere guida io rinuncio così andiamo in chiusura presidente allora andiamo avanti con le dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto no andiamo alle votazioni non aspettate sempre l'ultimo millisecondo lo chiedo a tutti veramente con questa cosa di aspettare nella manina e la manina che si alza allora no no vada 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 se non devo farla si figuri sei visto io volevo fare una dichiarazione puntuale precisa che non va nel merito di quello che abbiamo letto le intenzioni i cittadini io voglio solo dire che la strategia usata da questa maggioranza non è condivisibile anche se è una cosa che ci preme assolutamente fare tutti perché non è condivisibile e qui vorrei che i consiglieri andassero ad ascoltare l'intervento del capogruppo M5S del senato di oggi cosa dice a proposito del del contratto che stanno operando a Genova per il ponte quello che dice rispetto all'applicazione della 163 cioè del contratto degli appalti andate ad ascoltare quello che dice sugli affidamenti cosa pretende dice che dobbiamo fare come fa l'Europa che sino a 200.000 euro si possono fare perché bisogna fare velocemente io sono rimasto strabiliato stamattina rispetto all'intervento di un senatore della Repubblica che dice delle cose per favorire come dire velocemente il lavoro o siamo A o siamo B finisco nel dire la mia dichiarazione di voto che come dire mi preverebbe votarla però mi devo assenere per quale motivo Villa Lazzarone ahimè resterà nel degrado più buio nessun vero intervento che impegni risorse da parte di questa maggioranza pentastellata non c'è una lira c'è solo critical a tutto l'operato vecchio e noi facciamo meglio oggi si approveranno delle linee guide che per la per la futura gestione del teatro e paradossale in esse obbliga il potenziale utopistico gestore sia all'acquisto dell'arredo poltrone attrezzature impianti sia alle spese per il rilascio dell'agibilità ribadisco che sarebbe cosa buona e giusta che il municipio l'attuale maggioranza mettesse in bilancio la somma necessaria per completare l'opera e quindi seguendo la strada maestra mettesse a bando uno spazio in piena agibilità nel rispetto dico questo è il rispetto della linea di partenza per le associazioni da un punto uguale per tutti altrimenti qualcuno parte un passo più in avanti perché ha delle risorse disponibili o si sta attrezzando per averle tempo scaduto quindi per questo motivo e per l'alto senso che ho del lavoro per tutto il resto che abbiamo confezionato io dico non voto contro io non voto contro questa delibera perché siete 15 io mi astengo nell'attesa di aspettare che come Lorione che avete fatto un'altra delibera a capolavoro che come Quartomiglio la strada che si deve aprire che come via Cesena 40 anni come la strategia possa diventare realtà grazie e attendo ci sono altre dichiarazioni? ci sono altre sì consigliere a biondo per favore facciamo fare questa dichiarazione vada consigliere a biondo silenzio grazie 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 sarò veloce però dato che questa discussione è stata lunga il mio intervento ha portato diciamo scompiglio io sono intervenuta due ore fa ed è due ore che parliamo di questa cosa ma ne sono contenta perché appunto questo testimonia che questo era un atto un atto importante non rientrerò nel merito però volevo spiegare perché il partito democratico ribadendo tutti i motivi di preoccupazione che abbiamo esplicitato prima la paura appunto che questo bando non che queste linee guida non sortiscano il bando sperato e quindi la riapertura del teatro e mi dispiace moltissimo ma secondo me è un segnale nei nostri confronti che oggi nessuna associazione del territorio abbia partecipato a questo consiglio nonostante sappiamo quanto invece in commissione ci abbiano raccontato quanto questa la riapertura del teatro di Villa Lazzaroni è sentita dalle associazioni e dai cittadini ma oggi qui non è venuto nessuno probabilmente perché ci stanno dicendo che si sono sentiti traditi rispetto a un percorso che abbiamo che abbiamo iniziato nonostante questo e con questa preoccupazione che noi oggi ci sentiamo in dovere di esprimere e quindi non la dovete prendere semplicemente come una polemica ma come una posizione politica come prima spiegava il consigliere Giuliano nonostante questo noi rispetto ad un'intenzione e rispetto ad una speranza che ancora è accesa in questo municipio non ci sentiamo di votare contro e speriamo veramente che anche questa volta contrariamente al passato invece possiate dimostrare che avevate ragione non avete risposto a nessuna delle mie domande ovvero quali sono i tempi quando si aprirà quando ci sarà il bando quali attività sono state fatte in questi mesi nello spazio aperto di Villa Lazzaroni che in realtà è stato solo inaugurato ma non è stato mai aperto al pubblico e però avete ancora tempo prima della scadenza di questa consigliatura per dimostrare che siete meglio voi grazie ci sono altre dichiarazioni allora se non ci sono dichiarazioni io passerei al voto non siate timidi quando dovete fare le dichiarazioni sono un po' timido Presidente mi spiace allora vi intanto apprezzo lo studio dei lavori parlamentari perché qui è l'argomento che ci interessa più in questo momento a parte questo si è detto una cosa importante e cioè che è giusto che tutta la cittadinanza parta allo stesso livello per la gestione del teatro esattamente quello che stiamo facendo con un avviso pubblico perché prima non si faceva e perché hanno partecipato associazioni aziende comitati cittadini singoli non solo associazioni buona parte della cittadinanza ha partecipato a quasi tutte le commissioni tanto che abbiamo costruito assieme queste linee guida va bene ecco perché partiamo tutti dallo stesso livello perché andiamo con un avviso pubblico e perché queste linee guida sono state create di fatto tramite tramite il nostro apporto come eletti naturalmente con le associazioni che ci hanno detto questo secondo me sì questo secondo me no poi noi abbiamo deciso ovviamente come nostra responsabilità politica che cosa inserire e che cosa non inserire non so se è chiaro il punto cioè sulle risposte non date noi abbiamo dato risposta ai dati di fatto no? ci abbiamo anche ricordato il perché il per come tutto il percorso i teatri di cintura i non teatri di cintura sono state citate cosa assolutamente a caso quindi se permettete a questo non rispondiamo il momento 5 stelle vota sì e ringrazia tutta la cittadinanza che finora ha partecipato associazioni i comitati aziende qualsiasi qualsiasi anche singoli cittadini qualsiasi entità civica perché noi lavoriamo con tutti e ringrazio anche i consiglieri di opposizione che ci hanno aiutato in molta parte cioè non proprio tutti in realtà però anche a migliorare questo atto quindi io non so se sarà un atto trasversale eccetera quello che ho sentito non credo evidentemente però sicuramente abbiamo aperto una via politica quando si dice parlate in toni trionfalistici perché si farà no parliamo in toni politici abbiamo aperto una strada politica che è quello che ci compete è molto chiaro questo quello che andrà avanti lo scopriremo insieme abbiamo anche il coraggio di fare questo e non di affidare direttamente come il circolo agli artisti come a Califano e compagnia cantante grazie ci votiamo sì naturalmente sì e fratelli allora i fratelli d'Italia sono positivi per quanto riguarda questa delibera e lo saranno meno su altri argomenti ma su questo con cui hanno lavorato e hanno partecipato e hanno dato il contributo come metodo siamo d'accordo speriamo che le preoccupazioni che sono nostre e che sono anche di un'altra parte insomma di opposizione che condividiamo non siano totalmente vere per cui per cui si possa partire e si possa essere contenti di aver messo in moto una struttura ferma diversi anni e certo è che a noi non ci piace di fratelli d'Italia vincere facile per cui se prima lo era no? il futuro oggi potrebbe essere un po' diverso quindi quando si dice come sarà e come sarete voi maggioranza io il problema non me lo pongo lavoro giorno per giorno per cercare di capire dove si può arrivare dove si ha una convergenza ben venga dove non c'è ognuno fa il proprio lavoro però per quanto riguarda alcuni punti precisi per il territorio come tutti ci riempiamo la bocca capito della realtà cittadina anche fratelli d'Italia sono d'accordo nel cercare di dare un qualcosa che possa essere utilizzata nel miglior modo possibile sperando che sia così se non sarà così voi avete la maggioranza voi avete la come si dice la gestione dell'atto del percorso noi vi abbiamo dato una mano e ci metteremo lì a capire dove è sbagliato nel frattempo però non siamo rimasti fermi e non ci siamo creati il problema che chi deve gestire una cosa di questo tipo non può essere una struttura che sopravvive nel territorio per gestire un'operazione di questo tipo deve essere qualcuno capace che abbia le spalle coperte e che possa dare un risultato per il territorio questo penso che sia il metodo diverso nel non cascare sempre in quel marasma di situazioni dove nei vari settori ok l'associazionismo sia stato utilizzato in modo sbagliato Fratelli d'Italia vota sì ce ne sono altre dichiarazioni Totti sì anche dopo i Fratelli d'Italia ci sono i forzisti anche i forzisti votano a favore io l'ho detto già in precedenza la delibera l'abbiamo costruita in commissione con le associazioni con i comitati di quartiere c'è stata una condivisione in quella sede che io penso molto importante e poi io l'ho detto nell'intervento la puntualizzazione rispetto alla programmazione dell'attività l'obbligo dell'africatario i criteri primari queste sono state cose che abbiamo puntualizzato con precisione e questo per noi è stato molto importante e poi il discorso sia della trasparenza e della decadenza è chiaro che questo ci vede come ho detto favorevoli io l'altro giorno ieri su Facebook ho messo invece il discorso negativo rispetto all'incontro che non c'è stato Coama oppure c'è stata alle 9 di sera e voglio dire era una cosa importante perciò quando noi vediamo come forzisti cose importanti e cose diciamo nell'interesse dei cittadini senz'altro non abbiamo problemi di colore se sono positive le votiamo e anche le fermiamo allora possiamo votare credo tutti quanti abbiamo abbiamo sentito tutti i gruppi credo bene allora favorevoli contrari astenuti sì sono 15 favorevoli e 4 astenuti votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti credo sia stata si è concessa con con 15 voti favorevoli viene concessa e quindi la delibera è subito esecutiva a no no Grazie a tutti.